Previously on il caso di Bugalalla A prendere di mira Bugalalla è stato un gruppo limitato di utenti Che noi definiremo la rete Vi presento la nuova collaboratrice di M-Team Che analizza i casi di cronaca tra Rutti e Risate Il capobranco ragazzi è lui Una volta si chiamava San Santanico O Santanico che dir si voglia Spettacolo Vi prego di guardare questo video In cui Francesca Bugamelli, partner del criminale Mi accusa di essere la stasina di Mario Biondo Non solo sta io Voglio che questa venga registrata San Santanico e John Peschina Senzoramente non lo sappiamo che abbia cambiato il nome più volo Bugalalla ragazzi vola a Chicago Dove si fa una nuova postazione San Santanico pubblica gli estremi del visto turistico Usato negli Stati Uniti in quel momento Da Francesca Bugamelli Cara Abruzzone per giorni tu e il tuo lato Santanico Avete provato i miei gattini? Presto mi raggiungeranno, non temete Li rivedremo ovviamente Altro che bullismo Ma poi a 30 anni suonati Questa ancora parla di bullismo Direi che se un tantino è lui rimasta indietro Allora scrive Oggi in live alle 19 from Chicago Vi racconto come sono stata arrestata Per colpa di Santanico sana e Roberta Bruzzone Roberta Bruzzone dice che Bugalalla si sta inventando tutto di sana pianta O meglio è nato un terzo fronte Cioè un fronte che si chiama I delusi dalla bulla Chi se la fila? Voi! Ciao a tutti ragazzi e ragazze Bentornati su questi schermi Bentornati finalmente nel terzo Ultimo definitivo capitolo Di questa difficile e travagliata Trilogia con il quale chiuderemo Definitivamente il riassuntone Anche se là fuori sicuramente le cose Continueranno ad andare avanti per le lunghe Per chi si fosse perso i capitoli precedenti Vi lascio qui il primo episodio Nel quale abbiamo parlato del mistero di M-Team Delle liti tra Roberta Bruzzone E i suoi ex clienti Mentre qui vi lascio il secondo episodio In cui invece abbiamo conosciuto Il misterioso San Santanico Un account con questo nome fittizio Che si erge a giustiziere di M-Team Che ormai da mesi fa Un processo su Facebook a Bugalalla Arrivando a pubblicare persino il numero Del suo volo su Twitter Taggando l'FBI E appellandola come complice Di un criminale In questo secondo episodio Abbiamo conosciuto pure Tutta la rete che lo sostiene Commentando i suoi post contro di lei Con grasserizzate e tante indignazioni Insomma mi raccomando ragazzi Se non avete già visto gli episodi precedenti Andate subito a recuperarli Perché altrimenti di questo terzo episodio Io vi avviso Non ci capirete una beata ceppa Quindi andate Cioè vi aspetto qui Per chi invece ha già guardato Questi episodi precedenti Cioè perché siete ancora qui Il vostro fegato è d'accordo Con questa decisione Ne siete del tutto sicuri Di cosa parleremo quest'oggi Oggi termineremo il nostro viaggio Sul profilo di Santanico Perché la volta scorsa Lo avevamo lasciato un attimino in sospeso Quindi riprenderemo da lì Dopodiché parleremo di quella Che è la vera e propria lite Tra Bugalalla e Roberta Bruzzone Passeremo poi a esplorare Un altro profilo Che ha fatto delle cose Veramente brutte Nei confronti di Bugalalla Persino Forse Sì direi persino peggiori Di quelle che le ha fatto San Santanico E infine ragazzi Parleremo di un nuovo Gruppo Nato su Facebook Che si chiama I Delusi dalla Buga E che come si evince dal nome È un gruppo di Di fan pentiti Perché pentiti Lo scoprirete in quest'ultimo capitolo A questo punto ci siamo ragazzi Mettetevi comodi Andate a farvi subito Una bella tisana rilassante Anche oggi Perché questo video Vi farà arrabbiare ragazzi E vi farà arrabbiare Persino più dei video precedenti E nonostante tutto ciò Il vostro compito Continua a essere Quello di controllare i nervi In maniera da Non far degenerare Ulteriormente le cose Andando a cercare Le persone di cui parleremo oggi Per insultarle Non fate ciò Anzi vi ricordo Che abbiamo inventato un gioco Proprio Per gestire la rabbia Per gestire i nervi E cioè Commentate con Una banana Ogni volta che Siete scioccati Commentate invece Con una pesca Ogni volta che siete Particolarmente Arrabbiati A questo punto ragazzi Cominciamo E riprendiamo Dal punto in cui Eravamo giunti Intanto Bentornati In questo terzo E ultimo capitolo Del nostro Riassuntone Del nostro Videogiornale Settimanale Eravamo arrivati A questo post Con cui Bugalalla Affermava di essere E stata arrestata Per colpa Di Santanico E per colpa Di Roberta Bruzzone Mentre dal canto Suo Quest'ultima Smentiva tutto E fondamentalmente La prendeva Per pazza A questo punto Il flame Tra Bugalalla E Roberta Bruzzone Ragazzi Si accende Come un falò Ma Dobbiamo tornare Un attimo Sul profilo Di Santanico Dove Questo tizio Misterio Anzi Scusate ragazzi Questa Tizia misteriosa Perché mi avete Fatto notare Che L'account Di Santanico Più volte Si è riferito A sé Parlando al femminile Usando pronomi Femminili E io Cioè Non avevo Completamente notato La cosa Perché per me Ormai si chiamava Pasquale Comunque fa poca differenza Santanico Pubblica su facebook Questa clip In cui la protagonista È ovviamente Bugalalla Perché sul profilo Di Santanico Non vediamo altre facce Che la sua E qui la streamer Cosa sta facendo Ragazzi Sta recitando La parte Di un film Santanico Commenta questa clip Scrivendo Una performance Da premio Oscar Questa clip Ragazzi Che cos'è Praticamente È una clip Estrapolata Da uno showreel Pubblicato Da Bugalalla Su youtube Nel 2016 Quindi ben 6 anni fa Non nel suo Attuale canale Bugalalla Bensì su un canale Che la streamer Non utilizza più Da 5 anni E che conta Solamente 624 iscritti Il video integrale Da cui questa clip È stata estrapolata Come vi dicevo È uno showreel Che cos'è uno showreel È un insieme Di tante brevi Performance diverse In cui Bugalalla Cioè l'attrice In questione In questo caso Bugalalla Interpreta ruoli vari Uno showreel Praticamente È una presentazione Delle capacità Recitative Dell'attore Che insomma Viene utilizzata Per consegnarla Ai registi Insomma È Farsi valutare Per un eventuale Ingaggio In un film O in un'opera Teatrale A giudicare Da questo showreel A giudicare In generale Da questo canale Non è difficile Dedurre che 6 anni fa Bugalalla Aspirassi a diventare Appunto Un'attrice Tra l'altro Mi pare Che abbia proprio Studiato recitazione E questo fatto Di per sé Non ha nulla Di strano Non ha nulla Di anomalo Non ha nulla Di sbagliato Cioè Non è che Aspirassi a diventare Una ladra Eppure ragazzi Il classico meccanismo Del bullismo È quello Di porre La lente Di ingrandimento Su un fatto Che riguarda La vittima Su una sua Caratteristica Che Intrinsecamente Non ha niente Di imbarazzante Ma ingigantire Questa cosa È ridicolizzarla Al punto Da renderla Tale Cioè Al punto Da renderla Appunto Imbarazzante Ma questo Non è tutto Infatti Se questo Showreel Dura ben 5 minuti E comprende L'interpretazione Di tante Parti Diversificate Da quella Fantasy A quella Poliziesca Sant'Anico Ne estrapola Giusto 18 secondi Che naturalmente Non sono scelti A casaccio Infatti Sant'Anico Ragazzi Si estrapola Proprio Una parte In cui Bugalalla Sta recitando Una piece Drammatica Nella quale Il linguaggio Utilizzato È proprio Pesantemente Volgare Insomma Sant'Anico Pubblica Sul proprio Profilo Questa singola Clip E ciò Ovviamente Al fine Di schernirla Insieme Alla rete Perché come Potete facilmente Intuire Da soli Ragazzi Questo filmato Non ha niente A che vedere Né con M. Team Né con Una presunta Truffa Né con Nessuno Dei motivi Per cui Viene ostentato Giornalmente L'assio Nei confronti Di Bugalalla Ve la mostro Allora Quando ho sentito La sua voce La prima cosa Che mi è venuta In mente È stata Quella di stupirlo Di farlo Inc***are Sì Ma è un atto Troppo fisico E non mi soddisfa Sinceramente A me Non pare Un caso Se Sant'Anico Ha scelto E condiviso Esattamente Questa parte Specifica Dello showreel E quindi Anche qui Mi sorge La solita Domanda Qual è Lo scopo Di tutto Questo Se questo Video Non ha Alcuna Utilità Nella causa Contro M. Team Perché Postarlo Vabbè Nella rete Nessuno Sembra Porsi Questa Domanda Quando Sant'Anico Pubblica Questa Clip Perché Nei commenti Come al solito Si fa La festa Andiamoli A leggere Vi ricordo Ragazzi Che a ogni Colore Corrisponde Un preciso Account Un preciso Profilo Facebook E per questioni Di privacy Ho associato Un preciso Colore A Un determinato Utente Quindi Chiameremo Quell'utente Sempre col nome Dello stesso Colore Fuxia Chiede Nei commenti Ma è lei E risponde Sant'Anico Dalla finezza Si riconosce Subito Risponde Viola Manca Il rutto Come sigillo Finale Roberta Bruzzone Ragazzi Commenta Con tante Faccine Scioccate E Viola Le risponde L'ho detto Io Che staremmo Andate Tutte A Hollywood E Roberta Bruzzone Si ma Mi sa Che questa Ha trovato Chiuso Tante Faccine Che ridono Poi insomma Varie Faccine Scioccate E' buona Per la voce Personalizzata Nel navigatore Dell'auto Di certi Uomini Sostituirlo Con la voce Di cicciolina Vabbè Battute Che comunque Rivelano Un grande Progressismo Battute Di stampo Molto vintage La morte La fanzulla Ha scelto Un pezzo Che non potrà Mai recitare In modo decente Non con quel viso E' uno dei più Bei film Interpretati Dalla Sigourney Questa persona Ragazzi Non penso Che faccia Parte Della rete Cioè Non mi pare Proprio Semplicemente Sta commentando L'interpretazione Di Bugalal Santanico Risponde Io sono Ignorantissima Quindi qui ragazzi Confermiamo Che Santanico In realtà Sia una Santanica Comunque Questo secondo me Non cambia Assolutamente Nulla Se non I pronomi Perché qualcuno Nei commenti Del video precedente Ha avanzato L'ipotesi Che Santanico Possa essere Roberta Bruzzone Basandosi Solo su questo Motivo Cioè sul fatto Che Parli al Femminile Ecco ragazzi Cioè non mi pare Una prova Attendibile Il fatto Che parli Al femminile Diciamo Che scoprendo Che si tratta Di una donna Abbiamo escluso Giusto metà Della popolazione Mondiale Cioè non è che abbiamo Fatto chissà Quale scernita Tutto sommato Bisogna stringere Il cerchio Il cerchio Ancora un po' Prima di saltare A conclusioni Ma torniamo Alla sezione Commenti Risponde Il cinefilo A Santanico Ma va Dovresti Vederlo Quel film È bello Davvero E risponde Santanico Certo che Interpretato Da una cosa Del genere Dopo questo Preciso episodio Ragazzi Bugalala Inizia a stancarsi Di questi Continui Pressanti Attacchi Da parte Di Santanico E della rete Indy per cui Pubblica Sul proprio Profilo facebook Lo screenshot Di quest'ultimo post E commenta Così Quello Che le sta Succedendo In questo post State assistendo A un classico Esempio Di cyberbullismo So che molti Di voi Ne sono stati Vittime Quindi sapete Benissimo Di cosa parlo E come vi dico Sempre Non c'è nulla Di cui vergognarsi Anzi Se venite presi In giro Vi dico sempre Di dirlo A più persone Possibili E io Ho la fortuna Di avere voi Ecco qua La cosa sconvolgente È che a metterlo In atto Sia la dottoressa Roberta Bruzzone Psicologa E criminologa Professionista Che dice di lottare Contro la violenza Sulle donne E la ritrovo A fare la bulla Nei miei confronti Come non mi facevano Dalle medie Ma cosa la spinge A deridermi In modo così Basso e puerile Mi prende davvero In giro Per il provino Di un monologo Ma veramente Una professionista Si può comportare In questo modo Come reagisce Quindi Roberta Bruzzone Di fronte A Bugalalla Che si sente Vittima di cyberbullismo Da parte sua Cioè anche Da parte sua Reagisce in questo modo Ragazzi Cioè tagga San Santanico In un commento E gli scrive Questa cosa San Ci è rimasta male Per il post sul provino Porella Ci tiene Alla nostra considerazione Dai in fondo Non era poi così male Magari con un po' di impegno Può ottenere Un buon risultato Dai Non dobbiamo essere Così ingenerosi Diamole tempo Vediamo se migliora E poi le faremo sapere Comunque la rete Infierisce Infatti Grigio Scrive Cerca solo Un bugo In tv Povera Francesca E promette anche bene Si prospetta Una sua apparizione Versione indagata Però San Santanico Scrive Adesso per questo suo post Ci saranno come minimo Due settimane Di piagnistei Da vittima Cyberbullizzata Non è proprio male male Avrebbe dovuto dedicare Il suo tempo Alla recitazione Invece di mettersi Nei guai con un criminale Sono scelte A questo punto Ragazzi per fortuna La psicologa Lì presente Spiega a Santanico Che le emozioni Non si giudicano Per cui definire Piagnistei Da vittima Cyberbullizzata Una persona Che si sente Vittima di Cyberbullismo È una comunicazione Violenta Che andrebbe evitata Andrebbe sostituita Con un messaggio Formulato in maniera Più empatica Che tenti di Comprendere L'interlocutrice E far comprendere Il proprio punto di vista Invece che Limitarsi a schernirla Ah no scusate No non è andata così In realtà Risponde La psico Cioè Roberta Bruzzone Forella Dai Lei ci sperava In un giudizio favorevole Non dobbiamo essere Così duri con lei Lei si vede Che si impegna E seguono Tante faccine Che ridono Perché ragazzi Le faccine Che ridono Sono sempre numerose Perché si devono notare Cioè sia mai Che qualcuno Non si accorga Che la stanno prendendo Solamente per il culo A un certo punto Dunque ragazzi Sotto un posto di Roberta Bruzzone In cui la criminologa Condivide il servizio Delle iene Su emetim Compare una bugalalla Selvatica Che attenzione Ragazzi Fa a Roberta Bruzzone Una domanda Da un milione di euro Dottoressa Perché Mi attacca E insulta Spalleggiando Un profilo Santanico Che fa Cyberbullismo Contro le famiglie Delle vittime I loro consulenti Avvocati E contro la Sottoscritta E a questo commento Ragazzi Bugalalla Allega anche Uno screenshot Vediamo cosa c'è In questo screenshot Allora c'è praticamente Roberta Bruzzone Che scrive Riferendosi proprio A lei A bugalalla Ora mi sento Ora mi sento più Rassicurata Che questa soggetta Tra parentesi Mi hanno mandato video In cui rutta Dice parolacce Sdignazza Raccontando vicende Drammatiche Fa pure pipì Tutti i video Pubblicati da lei E visionabili Da chiunque Ovviamente Si ispirasse Si ispirasse a me Mi aveva inquietato E poi c'è un utente Che le risponde Ma vuoi mettere Sui rutti Il vino Il vino Che beve Durante le dirette No vabbè A questo commento Di bugalalla Ragazzi Roberta Bruzzone Risponde così Non si preoccupi Anche lei E' stata già oggetto Di denuncia In considerazione Delle numerose Diffamazioni A me rivolte Io non la sto affatto Attaccando Diversamente Da ciò che fa Lei da giorni Questa roba L'ha pubblicata lei Che ora si vergogna E' comprensibile Ma è tutta farina Del suo sacco Del resto Parleremo davanti A un giudice Niente ragazzi Anche questa volta Roberta Bruzzone Non ci vuole dare La soddisfazione Di sciarriarsi Come le persone normali Ne devono parlare Davanti a un giudice No Ne dovete parlare qua Perché noi vogliamo vedere Vogliamo sapere Vabbè continua Roberta Bruzzone Io a differenza sua Non spalleggio nessuno Ne offendo nessuno Sostenere che lei Sghignazzi Parlando di casi drammatici Durante i suoi numerosi video E metta versi gutturali Tra parentesi Parola tecnica Rutti E faccia pipì Non sono insulti Visto che i video ci sono Sono pubblici E li abbiamo acquisiti tutti Si tratta di banali descrizioni Delle sue numerose performance Ah sono descrizioni Allora no C'è una differenza sottile Proprio come un'autostrada Tra la banale descrizione Delle sue numerose performance E degli insulti Facciamo un esempio Di banale descrizione Il volto sorridente Il volto sorridente ritratto in primo piano Dai capelli colorfanta Emette all'improvviso Un verso gutturale Un rutto Come si suol dire Nel gergo più informale Il fuoco alle sue spalle Sembrò traballare leggermente Il sorriso della donna Dai capelli colorfanta Si espanse in una grassa risata La figura di una giovane donna Staccata dallo sfondo Con l'intenso uso Di un effetto bokeh Che fa risaltare La drammaticità Della sua espressione Esordi con tono aspro La prima cosa Che mi è venuta in mente È stata quella di stupro Queste ragazzi Sono banali descrizioni Mentre gli insulti Secondo me Sono più simili A dei commenti negativi In merito a tali performance Commenti negativi Espressi con l'intenzione Di offendere Anche con una certa dose Di cattiveria Quindi senza argomentare Ma solo con l'intento Di schernire Di ingrare Ma poi ragazzi Vorrei dire una cosa Io continuo a non capire Il senso di Li abbiamo acquisiti tutti Cioè ma Perché la domanda è lescita Perché ci sta Che possa Non piacerti Darti pure fastidio Questa streamer Che rutta Tra un caso di cronaca E l'altro Ci sta Però non ho capito Perché acquisire queste cose In una denuncia Per diffamazione Cioè da quando ruttare È diventato un reato Per cortesia Aggiornatemi Perché stasera A tavola c'ho la pepsi Non vorrei finire La serata in procura Ma continuiamo a leggere Il commento di Roberta Bruzzone Stava dicendo Che Le sue Sono banali Descrizioni Delle performance Di Bugalalla E continua Quello che fa lei Invece Si chiama Diffamazione Ma sia serena Presto le spiegheranno La differenza in procura Giusto per indicare Uno dei prossimi post Che verrà inserito In denuncia E a ciò la criminologa Ragazzi Si allega lo screenshot Del post Di M team Che Bugalalla Ha ricondiviso Scrivendo Vi presento Roberta Bruzzone A questo punto Ragazzi Lo scontro Si fa sempre Più concitato Il dado È tratto Il vaso È traboccato Dalla goccia No La goccia È traboccata Dal vaso Tra la Buga E l'Abruzzi Scoppia la guerra E i corrispettivi Eserciti Si schierano In modo più o meno Estremo Pronti a difendere A spada tratta La propria Beniamina È ufficialmente Il caos Ragazzi E da qui in poi Non se ne è più Capito un cazzo Dopo che il misterioso Sant'Anico Ha pubblicato Gli orari del volo Di Bugalalla Bugalalla Pubblica questo post Su Instagram Con il quale Dà una comunicazione Molto infelice E cioè Che essendo spaventata Per la propria Incolumità Per il momento Preferisce rimanere Negli Stati Uniti Evitando di ritornare In Italia Leggiamo questo post Ciao per soncione Del crimine Come avrete notato Nelle live Sono rimasta negli USA Dopo essermi consultata Con i miei avvocati Qui negli States E in Italia Abbiamo ritenuto Che essendo io Vittima di insulti Minacce E stalking Da un profilo Che ancora Non sappiamo A chi appartiene Sant'Anico L'amico cultivo Camicia di Roberta Bruzzone E che è arrivato A pubblicare Orario e numero Del mio volo Segnalarmi come criminale Alle forze dell'ordine E all'immigrazione Telefonare All'FBI Sì è follia Siamo giunti Siamo giunti Alla conclusione Che per la mia sicurezza È meglio Che io rimanga qui E prenda I doverosi provvedimenti Quindi dovete perdonarmi Ma finché questa storia Non si sarà risolta Io non potrò più Comunicare pubblicamente I miei spostamenti Come ho sempre fatto In tutto questo Non resterò sicuramente Con le mani in mano E sappiate che siete La mia forza Che mi aiuta Ogni giorno A lottare E andare avanti Vi voglio bene E vi ringrazio Di quanto affetto E vicinanza Mi state tutti dimostrando Hashtag Bruzzone Mettici la faccia E qui Già ci si chiede Ma dove la deve mettere La faccia Esattamente Cioè in che senso Ma non è ancora il momento Ragazzi Di porsi queste domande Andiamo per ordine Bugalalla Ragazzi A questo punto Quindi è letteralmente In esilio Si è auto esiliata E nel frattempo Va in onda Su Twitch Con una live Alla quale Affibbia Un titolone Shock Roberta Bruzzone Cyberbulla Sui social Se questa è Una criminologa Cosa succede In questa live Di che cosa Si parla In questa live In questa live Ragazzi Bugalalla Parla Di Intanto Intanto è al telefono Con Santina Biondo La mamma di Mario Biondo Di cui abbiamo Già Già parlato E a un certo punto Bugalalla Si mette a parlare Di Sant'Anico Si mette a leggere I tweet di Sant'Anico Contro di lei Fa vedere Che aveva messo La sua foto Come immagine Del profilo Insomma Dopo aver fatto vedere Tutta la roba Di cui abbiamo Abbondantemente Discusso Nel capitolo Precedente Bugalalla Ragazzi Accusa Sant'Anico Di essere ossessionata Da lei E di essere Letteralmente La sua Stalker Perché la sua Sembra essere diventata Proprio una Persecuzione Però Dice Bugalalla In realtà Io La ignorerei pure Questa Sant'Anico Se non fosse Che Sotto i suoi post Contro di me Io vedo Continuamente Le risatine Di Roberta Bruzzone E questa cosa Bugalalla Dice di non poterla Proprio concepire Non la può capire Non le piace Per niente Perché Roberta Bruzzone È un personaggio Pubblico Una persona Famosa Soprattutto è una Psicologa Criminologa Famosa Questa cosa Per Bugalalla È talmente Inconcepibile Che racconta Di avere scritto Direttamente A Roberta Bruzzone Chiedendole Delle spiegazioni Dice che ha provato A scriverle Dappertutto Ma che La reazione Ottenuta Da parte Della criminologa È stata Alquanto Insoddisfacente Perché Non le ha Risposto O quantomeno Non le ha Risposto Sul punto Cioè Bugalalla Le ha chiesto Perché Spalleggiasse Sant'Anico E la criminologa Le ha risposto Con una Controdomanda Della serie E tu perché Invece Spalleggi Un criminale In ogni caso Ragazzi Bugalalla Racconta Che alla fine Roberta Bruzzone L'ha bloccata E questo è quanto Quindi Siccome Lei non la può Più contattare Utilizza La live Che sta Registrando Come mezzo Per fare una Comunicazione Rivolta proprio A Roberta Bruzzone E cioè Dice espressamente In live Io invito Roberta Bruzzone Qui sul mio canale Per poterci Confrontare Faccia a faccia Perché ho bisogno Di risposte Da parte sua Perché appoggi Un account Che fa stalking Che insulta E che bullizza Me Le famiglie Delle vittime E dei me team Cioè Chi li aiuta La risposta Che ho avuto È stata Perché appoggi Un criminale Ma che c***o Cioè Cosa Perché Io non ho mai avuto Una risposta A questa Domanda Mai Infatti Sono di nuovo Qui A invitare La signora Bruzzone A venire qui E dirmelo E metterci la faccia Su perché Si comporta In questo modo Io voglio Una risposta Che non deve Maria Roberta Bruzzone Ha accettato L'invito Di Bugalalla Roberta Bruzzone Purtroppo Non ha accettato L'invito E non è qui Con noi Mi dispiace Roberta Bruzzone Ragazzi Purtroppo Non sembra Minimamente Intenzionata A confrontarsi Con la streamer Tanto che Ho trovato Questo comment In cui un utente Domanda alla criminologa Scusi la domanda Ma come mai Non accetta Il contraddittorio Non faccia Le live Da sola Inviti La I diretti Interessati E tutte le famiglie Delle vittime Che erano Sui clienti Che parlano Bene Di M. Team Se ha ragione Lei Non ha nulla Da nascondere Tuttavia Ragazzi Roberta Bruzzone Replica Così Ma con chi Dovrei colloquiare Con una stalker Come la bugamelli Io con un truffatore seriale Come seppellini Che la bugamelli Protegge Mi dica lei E sette faccine Che ridono Ma non finisce Qui ragazzi Perché dovete sapere Che Roberta Bruzzone Pubblica Su facebook Anzi Va in diretta Su facebook Con questa live Dal titolo Il truffatore seriale Mirko Zeppellini E me team Una storia Di manipolazione E ossessione E in questa live Parla sia Di Mirko Zeppellini Che di Bugalalla E tra le altre cose Risponde anche Ad alcune delle accuse Della streamer E in questo caso Specifico Ragazzi Sentite cosa dice In live A proposito Del Di un eventuale Confronto Con la streamer Il confronto Lo posso avere Con persone Che reputo In grado di confrontarsi Non con una persona Che mente Spudoratamente Su di me In mia assenza Ok E che addirittura Scatena l'odio Mentendo su vicende Che mai Le sono accadute Perché lei Non è vittima di niente Lo sa benissimo Lei non è stata arrestata E lo sa benissimo Lei racconta un sacco Di menzogne E lo sa benissimo E lo fa Proprio per alimentare Gente come alcuni Di quelli che stanno postando E fortunatamente Una minima parte No? Con l'obiettivo Di scatenare odio Di miei confronti Questa si chiama Persecuzione Quindi niente ragazzi Roberta Bruzzone Non ha la minima intenzione Di discutere pubblicamente Con Bugalalla Ma a questo punto ragazzi Torniamo a parlare Della live Di Bugalalla Quella in cui Sta definendo Roberta Bruzzone Una cyberbull Eravamo rimasti al punto In cui Bugalalla Raccontava Di essere stata bloccata Da Roberta Bruzzone E quindi di non potere più Vedere il suo profilo Ma Bugalalla Dice anche Che lei non è stata L'unica A subire questa sorta Infatti ci sono Diversi sostenitori Di Bugalalla Diversi Suoi fan Che Sono stati Bloccati Dalla criminologa Solo per aver chiesto Educatamente Per quale razza Di ragione Lei spalleggi Sant'Anico Invece di prenderne Le distanze E durante la live Mostra anche Qualche esempio Di commenti Di persone Che appunto Si esprimono Con civiltà Però Nonostante ciò Sono state bloccate Da Roberta Bruzzone Poiché La criminologa Ha pensato Che questi account Fossero dei fake E come scrive Lei stessa Qui i fake Non sono graditi Saluti e baci Ma in questa live Ragazzi Oltre a parlare Dei modi In cui Roberta Bruzzone Spalleggia Il profilo Di Sant'Anico Bugalalla Spiega Al suo pubblico Pure perché Roberta Bruzzone Secondo lei Secondo la sua versione Cova risentimento Verso M.T.M Non soltanto Per una questione Di concorrenza Che è Il motivo Che abbiamo Ipotizzato Nel primo capitolo Di questa Di questa trilogia Ma ragazzi Ce n'è anche Un altro Di motivo Secondo Bugalalla E cioè Che M.T.M. Ha tirato Ha Praticamente Scoperto Delle cose Molto incriminanti Su Roberta Bruzzone C'ha in mano Tante cose incriminanti Che riguardano Roberta Bruzzone E quindi Roberta Bruzzone Nel tentativo Di salvarsi il sedere Tenta di Screditare La fonte Di tutte queste Notizie Incriminanti Che la riguardano E questa fonte È proprio M.T.M Quindi cerca Di fare passare M.T.M Per una banda Di truffatori Al fine Di far pensare Che tutto quello Che dice M.T.M Sia falso Quali sarebbero Queste cose Così incriminanti Che riguardano La criminologa Di alcune Ragazzi Abbiamo già Discusso Per esempio Il fatto Che lei Secondo M.T.M Si faccia passare I fascicoli Solo per poterli Andare a Divulgare In televisione Nonostante Siano coperti Dal segreto Professionale Il fatto Che Lei Fosse stata Denunciata Per furto Di documenti Questo Sempre Vi ricordo Secondo La versione Di M.T.M Ma c'è anche Dell'altro Ragazzi Ci sono Anche Accuse Di corruzione Da parte Di Bugalal Ed M.T.M Nei confronti Di Roberta Bruzzone In che senso Corruzione Perché qui Ragazzi Andiamo Sulle cose Grosse Praticamente M.T.M Ha Pubblicato Su Facebook Questa clip Si tratta Della Registrazione Di una Videochiamata Su Skype Tra Appunto Qualche Consulente Misterioso Di M.T.M E Il trio Di Roberta Bruzzone Serena Gasperini E Anna Maria Bernardini De Pace Questa Videochiamata Risale Ai tempi In cui Le tre Professioniste Collaboravano Con L'M.T.M Da quello Che si Intuisce Ragazzi In questa Clip Si sta Parlando Di una Qualche Causa E Praticamente Si sente Che a un Certo Punto Mi pare L'avvocata Gasperini Dica Molto Chiaramente Ci facciamo Assegnare Un P.M. Come abbiamo Fatto Col caso Cucchi Questa Cosa È Scandalosa Cioè Suona Come Scandalosa Perché in teoria Il pubblico Ministero Dovrebbe Essere Casuale Cioè Non te lo Puoi Scegliere Deve Essere Imparziale Il P.M. Proprio Per evitare Che tu Ti vada A cercare Quell'amico Che ti Faccia Vincere La Causa A questo Punto Vi faccio Sentire Questa Clip Così Tanto Incriminante E Porto Proprio Formalmente La Denuncia Le Faccio Vedere E Chiedo Se la Tiene Lui Visto Che c'è La Parte Generale Se Mi Vuole Indicare Un Pubblico Ministero Specifico Come è Stato Nel Processo Cucchi Io Volevo Chiedervi Un'altra Cosa Ha Senso In questa Fase Interlocutoria Andare a Parlare Col Capo Dello Sco Rissi Con cui Io Ho Rapporti Diretti Io Con Rissi Non ho Problemi Con Rissi Ho Veramente Rapporti Diretti Con C'è Ben Di Prito Perché Magari Non Scusate Comunque Da Direte Non So Deve Partare Comunque Da Un Pied Perché Non Lo So La Metto Sul Tavolo Come Possibilità Secondo Me È Meglio Bai Parlando Nel Conello Direi Perché Le Indagini Di Questo Tipo Le Siamo Stato Perché Ci Sono Tutti I Percorsi Diversi A Seconda Nel No D'altra Cosa I Dovrà Sicuramente Demandare O Si Ma I 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 Deciderà Ci Dirà Guarda Depositate A I Tizio Boccaio A queste accuse Ragazzi Roberta Bruzzone E Serena Gasperini Hanno replicato Nella live Andata in onda Sulla pagina Facebook Di Roberta Bruzzone E come hanno replicato Praticamente Hanno spiegato Che questa clip È completamente Decontestualizzata Ed è decontestualizzata Volutamente Al solo fine Di diffondere Maldicenze Su di loro Hai dovuto raccontare Minchia Hai dovuto estrapolare Quelle uniche parti Di quel video Quattro minchia Dove assolutamente Non c'è niente Di particolare Perché stiamo parlando E mettendo in campo La possibilità Di contattare Delle persone Altamente professionali Come il dottor Ielo E il dottor Rizzi Semplicemente Perché ci avevi raccontato Era talmente grave Ed era talmente serio Che in quel momento Il rischio Che delle aziende italiane Con milioni di lavoratori Potessero essere a rischio A noi chiaramente Ci ha preoccupato Qual è stato il problema Quando ti abbiamo chiesto le prove Che non ci sta Perché erano tutte Due fantasie In questa live Inoltre hanno spiegato Cosa volessero dire In realtà Quelle parole Inserite nel loro contesto Nello specifico Ragazzi L'avvocata Gasperini Mostra una mail Inviatagli Il giorno Di questa famosa Videochiamata Proprio da John Peschiera E in questa mail Le viene elencato L'ordine del giorno Cioè tutte le cose Di cui hanno parlato Su Skype In questa Precisa Videocall Il 13 gennaio Invia alle ore 7.44 Invia una mail È lui Firmato John E l'oggetto è Punto Situazione Incontro Di oggi E testo Riassuntivo Per PM In previsione Dell'incontro Di oggi Tra Roberta Serena E l'avvocato Anna Maria Bernardini Di pace Con il sottoscritto Collegato In via Skype Eccolo lì C'avete la foto Eccolo lì Per Reati di Pirateria Editoriale Qui tra l'altro Roberta Bruzzone Sottolinea Che in videochiamata Era presente Pure John Peschiera E che Dalla clip Divulgata Sulle pagine Di M Team Si è Ritagliato E questo Secondo lei Dimostrerebbe Che La sua faccia Corrisponde A quella di Mirko Zeppellini Perché altrimenti Li farebbe vedere I suoi connotati Quindi ragazzi Attenzione Fermi tutti Qui devo rettificare Una cosa che avevo detto Nel primo capitolo Vi ricordate Che nel primo capitolo Avevo detto Cioè Avevo capito Che Questo John Peschiera Non si facesse mai Vedere In faccia E che quindi Non capivo come mai L'avessero riconosciuto Roberta Bruzzone E Le avvocate Ebbene Ragazzi In questa live Hanno Confermato Che in realtà Dopo aver iniziato La collaborazione John Peschiera Si è palesato Cioè la sua faccia L'ha fatta vedere In videochiamata Però a quanto pare La fa vedere Soltanto a chi Collabora con Mteam La sua faccia Comunque Vabbè Questa era una parentesi Diciamo una rettifica Comunque Per quanto riguarda Del motivo Per cui Hanno detto Ci facciamo Assegnare Un PM Io ragazzi Non ci ho capito Molto Ahimè Ho capito Soltanto che In questa mail John Peschiera Scrive che Scrive a Serena Gasperini All'avvocata Che Ha raccolto Tutte le prove In un unico libro Affinché Loro Possano andare A presentare Tutte queste prove A un PM Italiano L'intera documentazione Era gruppata In un unico indice Libro di prove In modo Che possiate Va bene Presentarla A un PM Italiano A questo punto Serena Gasperini Spiega Che Quando diceva Ci facciamo Assegnare Un PM Lei non è che Intendesse La persona Specifica Ma Intendeva Che Si sarebbero Fatti assegnare Il PM Di competenza Di quel Diciamo Di quel Di quel Reato Ragazzi Scusate Se mi manca Il linguaggio Tecnico Adesso vi faccio Sentire direttamente Le sue parole Però praticamente Lei dice Esistono dei gruppi Di pubblici ministeri Ne che sono tutti uguali Ci sono quelli Che si occupano Dell'antimafia Quelli che si occupano Di altri reati E quindi Praticamente Ti devi Far assegnare Il PM Specifico Per il reato Di cui Ti stai occupando Detta Molta Molto Alla buona Penso che Il significato Generale Della sua Spiegazione Ragazzi Sia questo In ogni caso Io vi faccio sentire Direttamente Cosa dice L'avvocata Onde evitare Di dare Un'interpretazione Erronea Al suo discorso Perché è stato Molto ostico Per me Capire Visto che Sono ignorante Come un topo Morto La procura È divisa In procuratore Capo E sostituti Procuratori I sostituti Procuratori Quindi i pubblici Ministeri Vengono divisi In categorie Geni Ogni gruppo Ovvio per noi Che sappiamo Di cosa parliamo Meno ovvio Perché è ignorante Come un topo E chiaramente Non sa neanche Come funzionano Queste cose Che sono Normalissime Questi pubblici Ministeri Vari Vengono suddivisi In settori Che cosa accade Che io Devo andare Da un procuratore Dal procuratore Capo Dicendogli Guardi Io ho Un problema Di questa portata Non so Chi Di questi Pubblici Ministeri Che le ha C'è il settore Specifico Che si occupa Di un determinato Tipo di reato Quindi scelga lei O individui lei Il sostituto Procuratore Che potrà occuparsi Di questa cosa Nel processo Cucchi La scelta Del pubblico Ministero Eccellente Pubblico Ministero Il dottor Musarò Che è riuscito A far luce Nel processo Cucchi Venne individuato Ma non è che Vengono scelti Ci sono Dei procuratori Che hanno Delle esperienze E hanno maturato Sono specializzati Ma è normale Specializzati Arriva veramente Un criceto morto C'è un criceto morto Ci arriva Capito Il pubblico Ministero Idoneo Quelli che fanno L'antimafia Sono un gruppo Se c'è una denuncia Se c'è una denuncia O c'è un accertamento Da fare Il procuratore Capo Indicherà Sceglierà Uno di quelli Infine ragazzi Sempre per rispondere Alle accuse Di Bugalalla Serena Gasperini Spiega che Non ce l'hanno Con Mteam Perché Per questioni Di concorrenza Non ce l'hanno Con Mteam Perché Ha scoperto Chissà quale schifo Su Roberta Abruzzone Su di loro Tipo che corrompono I pubblici ministeri Ma semplicemente Perché Lui Sta Cioè Questa persona Che starebbe Dietro Mteam Sta illudendo Delle famiglie Che stanno cercando Giustizia Dando loro Delle false speranze E inoltre Sta sfruttando Una ragazza Ovvero Bugalalla Facendole credere Di stare Sbarcando Il lunario E tutto Per i suoi Miseri Scopi E solo per il suo Interesse Truffaldino Ma ragazzi Di questa live Di Roberta Abruzzone Dobbiamo parlare In modo più Approfondito Perché Non si limita A rispondere Alle accuse Di Bugalalla Da proprio Tutta la sua Versione Dei fatti Spiegandola Più o meno Per filo E per segno Quindi appunto Dobbiamo parlarne Approfonditamente Come vi dicevo In questa live Ragazzi Roberta Abruzzone Parla sia Di Mirko Seppelini Che Della streamer Bugalalla E in generale Non si distingue Per i toni moderati Questo siete Scorreggio digitali Questi sono stati L'oggetto di critica Principale Da parte Dei suoi oppositori Degli oppositori Della criminologa Infatti in questa live Roberta Abruzzone Si rivela Acida Come un limone Con chiunque Non si è d'accordo E non si è d'accordo Con lei Cioè lei Risponde Alle domande Dei perplessi Fondamentalmente Facendoli sentire Degli imbecilli Nel sintetizzare Questa live Di Roberta Abruzzone Comincerei Dal Dalla sua Opinione Su Bugalalla Perché Diciamo che Gliele ha cantate Manco foste al karaoke Tanto per cominciare La prima cosa Che le critiche Che a 30 anni Ancora non si sia laureata Cioè lei dice Se tu aspiri a fare La criminologa E ancora a 30 anni Non c'hai manco Una laurea Che dovrebbe Già essere Quanto meno Specialistica La tua Non è una situazione Brillantissima Ora a parte il fatto Che Bugalalla Se non sbaglio Sia laureata In scienze della comunicazione Quindi non è Del tutto vero Da questi toni Ragazzi Intuiamo Che la criminologa Sia proprio Sul piede di guerra Non usa mezzi termini Talvolta interviene L'avvocato Serena Gasperini Presente Come avete Avrete intuito Anche lei Durante questa live Per spiegare In parole Più Diciamo Garbate Questi concetti Che la criminologa Esprime In modo acido E talvolta Approssimativo Comunque Ma a che proposito Roberta Bruzzone Pronuncia Queste parole Controverse Circa il fatto Che Bugalalla A 30 anni Ancora non sia laureata A proposito A proposito Del fatto Che M Team Abbia affidato La comunicazione Dei suoi casi Proprio a lei Al canale Di Bugalalla E in pratica Ragazzi La criminologa Dice Ma vi pare Una cosa Applausibile Che un team Internazionale Fighissimo Super professionale Composto Da decine E decine Di studi legali Da professionisti Decida di affidare La comunicazione A Bugalalla Che punto Primo Non è laureata Punto Secondo Usa il black humor Quando diciamo Espone i casi Quindi Il suo modo Di comunicare Che può piacere Non piacere Per carità Però Sta di fatto Che il suo modo Di comunicare i casi Può risultare controverso In pratica Roberta Bruzzone Ragazzi dice Cioè M Team Con tutti i canali Che ci sono Che magari Comunicano In un modo più Politicamente corretto Diciamo così Più serioso Giuscio Giuscio Doveva andarsi A scartare Bugalalla Che è così Esuberante Nel suo modo Di esporre i casi E che appunto Non è laureata In psicologia Criminologia Eccetera Eccetera Ora Questa scelta Dell'M Team Dovrebbe rivelare Secondo Roberta Bruzzone Come è andata Veramente Perché secondo lei Secondo la criminologa È successa Questa cosa Quando è uscito Il servizio Delle iene Sull'M Team La televisione italiana Non ha voluto Più invitare Gli avvocati Di M Team Nei suoi studi Per esempio L'avvocato Pettirossi Perché è perplessa Da Da questo scandalo Quindi Mirko Seppellini Si è visto Tagliato fuori Dai programmi televisivi E si è inventato Un nuovo modo Per pubblicizzarsi E per divulgare Le proprie prove Nuove fasane E per attrarre Nuove prede All'interno Della sua trappola Quindi per cui Si è rivolto A Bugalalla Che Bruzzone Nella sua presentazione Definisce in questi termini Allora intanto dice Zeppellini è costretto A cambiare strategia Perché appunto Nei salotti televisivi Non lo invitano più E si rivolge A Francesca Bugamelli Una donna di 30 anni Priva di qualsivoglia Esperienza e competenza Che in maniera Decisamente discutibile Sghignazzando E sbevozzando Tenta di occuparsi Di temi Delicatissimi Allora Questo trafiletto Ragazzi Lo voglio commentare Voglio intervenire Io per dirvi Cosa ne penso Personalmente Perché Non ce la faccio Stare zitta Ragazzi È troppo bella Commentare questa parte Punto primo Priva di competenza Sinceramente Me lo sarei Risparmiato Prima di tutto Perché non è carino Cioè proprio Per una questione Di buon gusto Di educazione Diciamo Parlare Con quest'area Di superiorità Nei confronti Di un'altra persona Ma soprattutto Perché parliamo Pur sempre Di una donna Francesca Bugamelli Laureata in scienze Della comunicazione Quindi sì Sicuramente Non sarà abilitata Ad andare a fare La consulente di parte La criminologa Ma Come comunicatrice Oserei dire Che ha persino Più competenze Di Roberta Abruzzone Cioè qualcosa Questa laurea In scienze Della comunicazione Dovrà pur servire E occhi e croce Direi che per aprirsi Un canale E comunicare Con un piccolo pubblico È alquanto utile Tra l'altro Se proprio vogliamo Credere che Questo mondo Debba essere Un mondo In cui Si può fare Solo il lavoro Che si è abilitati A fare con la propria Laurea specifica Allora direi Che Roberta Abruzzone Si dovrebbe limitare A fare la consulente Di parte A fare la psicologa Forense La criminologa Ed evitare Di andare in tv A fare l'opinionista Tipo ad esempio A ballando con le stelle Perché? Perché plausibilmente Nel suo corso di laurea Non era prevista Nessuna disciplina Specifica Che la rendesse Competente Nella comunicazione Con il grande pubblico Quindi questo per dire Che tutti abbiamo Lacune in qualcosa Tutte e due Francesca Bugamelli Roberta Abruzzone Avete lacune in qualcosa In generale Eviterei Di pronunciarmi Con questa Area di superiorità Dicendo che Addirittura L'altra persona Non ha competenze Cioè Ci sono modi Più articolati Per esprimere Questo concetto Che non siano Offensivi E denigratori Cioè Non ha competenze Specifiche Nell'ambito di No Non ha alcuna competenza Oh Punto secondo Se Francesca Bugamelli Nel suo canale Parla di temi delicati In modo Discutibile Per Roberta Abruzzone E sicuramente Per tanti altri Perché sghignazza E sbevazza Mentre lo fa Per tante altre persone E Roberta Abruzzone Quella che parla Di temi delicati In modo discutibile Come per esempio Nel caso Della live Su Mirko Seppellini Perché è vero Roberta Abruzzone Non sghignazza Non beve il vino Tuttavia Mentre parla Del caso Di Mirko Seppellini Usa espressioni Come ad esempio Malato mentale In modo dispregiativo Riferendosi a lui Riferendosi a lui Addirittura E se a questo E se a questo aggiungiamo Che lei Si rivolge Con disprezzo A chi Nei commenti Non è d'accordo Con lei Un problema di comprensione Di lingua italiana Cioè qual è Un problema di base Un'infanzia difficile Fammi un po' capire Piuttosto che Rispondere in maniera civile Magari Cioè non dico Instaurare un confronto Ma comunque Spiegare Quelle cose Che magari Una persona Che appunto Non ha le sue competenze Potrebbe trovare Ostiche Ecco per questi motivi Qualcuno potrebbe Benissimo Trovare i toni Di Roberta Abruzzone Un modo A dir poco Discutibile Di affrontare Tale argomento Perché Pur essendo lei Una psicologa Pur avendo La sua bella laurea Appesa al muro Continua a usare Un linguaggio D'odio Che forse ci si potrebbe Aspettare Da una persona Priva di qualsivoglia Esperienza e competenza E quindi Che dire ragazzi Ci sono persone A cui può dar fastidio Il modo Di comunicare Di bugalalla Che Sghignazza Sbevazza Mentre parla di temi Delicati Vogliono Suicinarmi Esatto Il furarlo Vuoi rosso No allora Io ho il foulard Per favore Evitate quelle Marche pacchiane Come hanno usato Per Tiziana Cantone Che hanno usato Un foulard Della desigual Che le faceva cagare Anche a lei La desigual Quindi Non la desigual Per via Ma C'è Ci sono anche Tante persone A cui può Dar fastidio Sentir Comunicare Una persona Come Roberta Abruzzone Che appunto In Dice In modo Dispregiativo Ritardati Mentali Hai avuto Un'infanzia Difficile Perché non Capisci Quello Che ho detto A 30 anni Non c'ha manco La specialistica Non è una situazione Brillante Ignoranti Imbecilli Ovviamente Ragazzi Ognuno C'ha i suoi gusti Ed è giusto Che sia così Esiste infatti La parola Target Per indicare Il tipo Di pubblico Qui si rivolge Un comunicatore Roberta Abruzzone Si rivolge A un determinato Target Bugalalla Si rivolge A tutt'altro Tipo di Target Nonostante le due Parlino dello stesso Argomento Tuttavia Penso che Dare per scontato Che il proprio Modo di comunicare Sia superiore A quello Dell'altra Perché c'hai un titolo Di studi In più Sia una Grande mancanza Di umiltà E anche una visione Un po' classista Della vita Così come lo è Dare per scontato Che sia giusto Far lavorare Soltanto persone Che hanno Esperienza Perché questa Cosa Che M team Ha assunto Una persona Che non ha Esperienza Nel campo E quindi Questo dimostra Che sia Un team Poco serio Cioè ragazzi Io Cioè non Non è la causa A non andar bene È il modo In cui la si difende Cioè questo Ragionamento È estremamente Escludente Ed è proprio Il modo di ragionare Che continua A impedire Alla mia generazione Di avanzare Nel mondo Del lavoro Perché la possibilità Di fare esperienza Viene preclusa A priori A chi l'esperienza Ancora non ce l'ha Quindi per cui Si crea questo circolo Vizioso Che fa andare avanti Solo chi Ha le possibilità Economiche Di lavorare Gratuitamente Di fare degli stage Non remunerati Di fare Dei master Che sono pure Molto costosi E questo ragazzi È un problema sociale Della mia generazione Che è Un grande Problema Problema Che tra l'altro Ragazzi potrebbe essere Esattamente il motivo Per cui Magari Ci faremmo Persino Prendere Per i fondelli Facilmente Da una società Trufaldina Che ci offre Un'opportunità Perché non ne abbiamo Molte di opportunità Quindi ci brillano Gli occhi Per un non nulla Non è che abbiamo Moltissima Moltissima scelta Per tutti questi motivi Per me ragazzi Questo trafiletto È di uno Squallore infinito Perché lo stesso concetto Si poteva esprimere In un milione Di modi Molto meno Infelici Meno classisti E più umili Ma ovviamente Ragazzi Questa è solo La mia opinione L'opinione Di una misera Scorreggia di vita L'ignorante Come un topo Morto Quindi Prendetela Con le pinze Allora Vi ricordate Che Bugalalla Si è autoesiliata Per paura Di Sant'Anico Definito In questo post Come C*** camicia Con Roberta Bruzzone Ebbene La criminologa Durante la live Risponde a questo post E lo fa Ripescando Quest'altro post Che se vi ricordate Abbiamo letto Nel capitolo precedente In pratica Bugalalla Qui diceva Di essere a Chicago Per lavorare Con M Team E che presto L'avrebbero Finalmente Raggiunta I suoi gatti Quindi Cosa dice Roberta Bruzzone Bugalalla Aveva già programmato Di restare a Chicago Altrimenti Che cacchio di motivo Aveva Per farsi raggiungere Dai suoi gatti Tanto per fargli Fare una vacanza E quindi Per Roberta Bruzzone Questa ragazzi Sarebbe La dimostrazione Che Bugalalla Stia orchestrando Una specie Di messi in scena Solo Per infamarla E perché Perché deve Proteggere Mirko Zeppellini Che lei Roberta Bruzzone Ha sapientemente Smascherato Quindi in pratica Ragazzi Qui si sta Ribaltando La situazione Cioè Secondo la versione Di Roberta Bruzzone E M Team Che cerca di Screditarla Per screditare Le sue scoperte E non il contrario Come sostiene Come ha sostenuto Bugalalla In questa live E per screditare Che Roberta Bruzzone E insultare E insultare San Santanico Che cosa Avete capito bene Secondo Roberta Bruzzone Bugalalla Bullizza E perseguita Santanico A riprova di questa teoria Dice Roberta Bruzzone Che In realtà È lei Che ha iniziato A Diciamo Molestare Santanico Quando In live Ha detto Che dietro Il suo profilo Si nasconde Una delle assassine Di Mario Biondo Sentite con le vostre orecchie Speriamo che non sia davvero Una persona implicata Nell'omicidio Perché come se ne fa uno Se ne fa anche un altro Se mi trovate suicida Non sono straio Voglio che questa Venga registrata Sentite con le vostre orecchie Questa affermazione Di Roberta Bruzzone Di nuovo dice Che è stalkerizzata Da Santanico Ma non è vero Santanico Non sa fila proprio È l'ultimo dei problemi Di Santanico Questa signora qua Anzi Ha cominciato a difendersi Dalle illazioni Di questa signora qua È lei che ha cominciato A perseguitare Santanico E di conseguenza E lei Non noi Assolutamente Ed è tutto temporalmente Dimostrato ragazzi NCS ragazzi NCS Non ci siamo Ok punto primo Ragazzi per favore Non diciamo cavolate Che Santanico Non se la fili proprio È una cosa falsa Non mi venite a dire così Dopo che ho buttato Giornate intere Proprio per partorire Un video di due ore In cui altro Non faccio che elencare Tutte le volte In cui Santanico Ha parlato di Bugalalla Accusandola di essere Una criminale Schernendola Andando a cercare Cose sue personali Tipo il visto Abbiamo visto Che se l'è messa Come immagine Del profilo su twitter Che ha messo Come immagine Di copertina Lo screenshot Del sito Dell'ufficio immigrazione Ha usato come nickname Persino Bugalalla Cioè Ha dedicato Pure ore preziose Della sua vita Al montaggio Di un video Con tutti Eh oh Che dice Bugalalla Nelle sue live Quindi per cortesia Ragazzi Smettete di dire Che Santanico Non si fila Bugalalla Per carità di dio Non è una cosa Intellettualmente onesta Ma non nei confronti Di Bugalalla Nei confronti miei Punto secondo Che il bullismo Lo abbia iniziato Bugalalla Accusando Santanico Di essere l'assassina Di Mario Biondo E che ciò sia Cronologicamente dimostrabile E confutato Da questo stesso video In cui Vi ho riportato Fino alle origini Del rancore di Santanico Verso Bugalalla Che infatti È nato ben prima Che Bugalalla Dicesse quella specifica Cosa in live Tanto che Quando Santanico Ha condiviso Questa clip In cui appunto La streamer Insinua Che dietro Santanico Ci possa essere Un'assassina Era Il 16 dicembre 2021 Mentre la prima volta Che Bugalalla Compare Sul profilo Di Santanico È questa qui Ed è datata 29 ottobre 2021 Quindi quasi due mesi Prima E Santanico Qui la chiama La donna in pizzo Quindi ancora manco Manco la chiama Per nome Il montaggio Con tutti gli EO Risale invece Al 30 ottobre 2021 Il numero Del volo Di Bugalalla Santanico Lo pubblica Su Twitter Il 10 dicembre 2021 Al 9 dicembre 2021 Risale L'insinuazione Che Bugalalla Ce la faccia Con Mirko Zeppellini Il 10 dicembre M.T. Ma ha condiviso Questo post Per dire Che praticamente Ha bloccato È riuscito A bloccare L'immagine Del profilo Di Santanico In cui Era ritratta Bugalalla Questo che cosa Significa Che già Prima del 10 dicembre Effettivamente Santanico Aveva impostato Necessariamente Come immagine Del profilo La faccia Di Bugalalla Il 14 dicembre Santanico Condivide Il numero Del visto turistico Di Bugalalla E solo due giorni Dopo ragazzi Il 16 dicembre 2021 Santanico Condivide Questa clip In cui Bugalalla Effettivamente Dice Speriamo Che Santanico Non sia coinvolta Nell'omicidio Di Mario Biondo Perché come si fa Un omicidio Se ne fa pure Un altro Quindi ragazzi Si è vero Che Bugalalla Ha fatto Questa affermazione Scomoda Infelice Ma A onor Del vero L'ha fatta Due mesi Dopo Le insistenze Di Santanico Nei suoi confronti Quindi a conti fatti Ha iniziato Santanico Ed è tutto Cronologicamente Dimostrabile Ma ragazzi La grande notizia È che in questa live Roberta Bruzzone Risponde finalmente Alla domanda Più gettonata Di tutte E cioè Perché Spalleggia Santanico Finalmente Abbemos Risposta Praticamente La criminologa Sostiene Che in realtà Lei non spalleggia Nessuno Cioè Lei è d'accordo Con alcune cose Condivise Da Santanico Mentre altre Non le condivide Però Per quanto La riguarda Bisogna dire Che Santanico Sia un vero Talento Nello stanare I criminali Attraverso Il web Infatti In passato Le ha dato Una mano A stanare Non l'ho capito Chi Vabbè Vi faccio sentire Questa parte Io non ho niente A che fare Col profilo Di Santanico Non c'entro niente Non so chi lo gestisca Non so chi sia Ma francamente Ritengo Che sia un profilo Di una persona Che nell'ambito Della vicenda Di Pizzalis Di Valentina Pizzalis Di cui mi sono occupata Abbiamo concluso Con l'archiviazione Anche lì c'era una campagna Persecutoria Nei confronti di Valentina E mia Queste persone Avevano cominciato A persecutarci In maniera estremamente Terribile Santanico all'epoca Ci diede una mano enorme Segnalando tantissimi Post diffamatori Nei confronti miei E anche della Valentina Pizzalis Che poi sono stati oggetto Di denuncia Per cui Santanico ha sicuramente Un grande talento Chiunque esso sia A stanare i criminali online A stanare i soggetti malevoli A stanare i soggetti pericolosi Scrive delle cose Che in parte Non completamente Naturalmente condivido Perché alcune cose le condivido Quindi che dire ragazzi Questa è l'Italia del 2021 Ti crei un profilo falso Ti ergi a un giustiziere Scavalchi le istituzioni Usando Facebook Per ricercare Stanare i criminali Mettendoli alla berlina Sulla tua bacheca Come se questa fosse Un patibolo Direi un'aula di tribunale Ma anzi È più un patibolo E ti dicono che hai un talento Ti crei invece Una community su Twitch In cui divulghi casi Di cronaca nera E ti dicono che sei un incompetente Perché bevi il vino Nel frattempo È zilarante Comunque Roberta Bruzzone Sostiene che Sant'Anico Non sia l'unica vittima Della persecuzione E del bullismo Di Bugalal Ma che ne sia vittima Persino lei Infatti Secondo Roberta Bruzzone La macchina del fango In realtà Si starebbe muovendo Contro di lei E non contro la streamer E infatti Mostra questo commento qui Commento che Suppongo sia stato lasciato Sotto uno dei video Di Bugalala Ricaricati su YouTube Cosa leggiamo in questo commento? Praticamente c'è un utente Che scrive La Bruzzone Se la ricordano bene In università A Genova E qui mi fermo Francesca il tuo lavoro Importante Continua Ma Bugalala Le risponde No no ti prego Continua Sono davvero interessata Grazie Rispondi allora Questa Questa utente Ho studiato anche io Lì da adulta Ho preso la triennale Per cultura personale Beh Molti professori Non ne avevano Un buon ricordo Come studentessa Pare che i voti Li barattasse Ma con che cosa? Con la ricotta Con un asino Poi è sempre stata Molto criticata Proprio per la sua Smania di apparire Un criminologo vero Lavora Non va in tv Da prezzolato Don't tell anybody Non dirlo a nessuno Allora Nella live ragazzi Roberta Bruzzone Ovviamente risponde A questa dichiarazione Perché dice Che è completamente Falsa Proprio una diffamazione Della pezzorspecie Infatti Dice Che Probabilmente I professori Di questa tizia Avevano le allucinazioni Cioè dice proprio Che avevano Un disturbo allucinatorio Quindi Gli fa proprio la diagnosi Infatti lei Nella facoltà di Genova Non ci ha mai messo piede Lei si è laureata Presso l'università Di Torino Con 110 e lode Sottolinea Ah e poi ragazzi C'è anche un'altra cosa Da chiarire Vi ricordate Che avevamo letto Questi screenshot Nello scorso episodio In cui appunto Roberta Bruzzone Inviava a qualcuno I fascicoli Del caso Sacchi Vi ricordate Che Metim Accusava Roberta Bruzzone Di farsi passare Questi fascicoli Illegalmente Per andarli a piazzare In televisione Per andare a piazzare In tv Le notizie in esclusiva Ebbene al termine Di questa live Roberta Bruzzone Dichiara Che in questi messaggini Stava comunicando Proprio con Mirko Zeppellini Anche detto John Peschiera E che a questi fascicoli Lei è vero Che attinge Però glieli passano I giornalisti Ed è giusto Che sia così Perché Per andare a parlare In televisione Bisogna prima Documentarsi Sulle fonti Mteam Passa alla streamer Delle prove Da sbaffare Solo che questa volta Le prove Non riguardano Un caso Di true crime Qualsiasi Bensì Il caso Di Mirko Zeppellini Bugalalla Afferma infatti Che Mirko Zeppellini Abbia sì A che fare Con Mteam Ma non In qualità Di leader fondatore Mirko Zeppellini Secondo la versione Di Mteam Di cui la streamer Si fa portavoce Altro non sarebbe Che un cliente Di Mteam E fin qui In realtà Ci eravamo Anche arrivati Ma c'è di più ragazzi Mirko Zeppellini Dipinto dalle iene Da Roberta Ray E da Roberta Bruzzone Come un truffatore Che è stato chiuso Al fresco Per due anni In realtà Sarebbe Incensurato Bugalalla Infatti mostra Questo documento I più attenti Di voi Lo riconosceranno Subito Perché questo È lo stesso documento Di cui abbiamo parlato All'inizio Dello scorso episodio E questo documento Dovrebbe provare Che Mirko Zeppellini Dopo essere stato Effettivamente arrestato Sia stato Tuttavia Rilasciato Perché Il caso Non sussisteva Cioè il caso È stato dismesso Non si è potuto dimostrare Che lui avesse Effettivamente Commesso Delle frodi E pertanto Altro Non hanno potuto fare Che rilasciarlo Una versione Ben diversa Da quella raccontata Da Roberta Bruzzone Che invece Nella sua live Di documento Ne mostra Un altro E cioè Questo qua Come vedete Lo ha intitolato La perizia Roberta Bruzzone C'è scritto C'è scritto Che siccome A questo Mirko Zeppellini Indagato Per aver commesso Diverse frodi Il dottor Sarasin Ha diagnosticato Questo disturbo Delirante Con mania di persecuzione E megalomania Allora Avrebbe dovuto Curarsi Assumendo Degli antipsicotici Tuttavia Mirko Zeppellini Si rifiutava Di assumere Questi farmaci Perché non riconosceva Che i suoi sintomi Derivassero Effettivamente Da una malattia Cioè in sostanza Lui non si voleva curare Perché Non si riconosceva Come persona Con un disturbo mentale Se ho ben capito Quindi Questo fascicolo Ragazzi Che cos'è È una specie Di mozione Avanzata Dagli Stati Uniti Nello specifico La corte del Nevada Affinché Si imponesse A Mirko Zeppellini Il trattamento Medico Richiesta Che però Alla fine della fiera Viene respinta Perché si tratta Di un trattamento Medico Attuo a curare La schizofrenia E non il suo Disturbo specifico Per cui Non è Non gli si può Imporre come trattamento Proprio perché Non è mirato Cioè sarebbe come Pretendere di Curare Un paziente Che non ha Un cancro Con una terapia Mirata a combattere Il cancro Oltretutto Ragazzi Questi psicofarmaci Avrebbero anche potuto Sortire su Zeppellini Un effetto contrario E cioè Quello di Esasperare Le sue manie Di persecuzione Cioè se il governo Gli impone Di pigliare Psicofarmaci Quando lui Non pensa Ed è convinto Di non averne bisogno Non mi pare difficile Che si esasperino Le sue manie Di persecuzione Comunque Ha senso Ai fini Del nostro Riassuntone Perderci in questi dettagli No ragazzi Affatto Però io sono affascinata Da queste cose Quindi ve le ha collate In ogni caso Roberta Bruzzone Usa questo documento Per dimostrare Che Mirko Zeppellini È che no Il caso di Mirko Zeppellini È stato dismesso Non sussisteva Ci sono le prove Questi documenti Sono consultabili Da tutti C'è scritto Chiaramente In questi documenti Che il caso È stato dismesso Indi per cui Mirko Zeppellini Ha la fedina Penale pulita Come quella Di un lattante Questo tra l'altro Ragazzi È il motivo Per cui Bugalalla Afferma di non poter Rispondere alle domande Che riguardano Mirko Zeppellini Perché questa persona Parla solo Tramite i suoi avvocati E in sostanza È pronto a romperti Le balle Per qualsiasi cosa Tu dica di lui Indi per cui Lei dice È inutile Che mi chiedete Ma allora le foibe A meno che non siete Dei leghisti Perché preferirei Non nominare Sto tizio Che sia mai Mi scaglia Contro i suoi avvocati Cioè questa in realtà È la mia parafrasi Di quanto detto da lei Comunque suppongo Che ragazzi Questa cosa Sia esattamente La ragione Per cui Bugalalla Da questo momento In poi Da questa live In poi Eviterà di rispondere A tutte le domande Tra l'altro Molto pressanti Che riguardano Proprio la persona Di Mirko Zeppellini Lei dice Di non volere Parlare A nome di un cliente Di M.I.T.E.M. Che ha una causa In corso Ora ragazzi M.I.T.E.M. Come vi ho già detto Mi ha mandato Personalmente via mail Tutti questi documenti Con tanto di spiegazioni Con tanto di spiegazioni Nonostante ciò Io ragazzi Ribadisco la mia posizione Non capisco Un cazzo Questa è la mia posizione Non ve la figliate a male Io queste cose ragazzi Non le mastico completamente Vi ho riportato Il documento Mostrato da Roberta Bruzzone Vi ho riportato I documenti Che ha fornito M.I.T.E.M. Ma io non posso Stabilire Quali documenti Tra questi Siano validi E quali siano Fasani Cioè È chiaro Che ragazzi Qualcuno In questa storia Sta mentendo No? Cioè Mi pare Mi pare Palese A questo punto Qualcuno Deve mentire Per forza E io non ho Gli strumenti Per capire Chi sia Questo qualcuno Posso farmi La mia idea Ma Dicendola Non farei altro Che alimentare Una delle due Teorie Del complotto Ho la teoria Del complotto In base alla quale Dietro M.I.T.E.M. Ci sia un furfante Ho la teoria Del complotto In base alla quale Roberta Bruzzone Sia una mitomane È sicuro Che il finale Di questa storia Quando mai ci sarà Un finale Sarà scioccante A prescindere Ma io Non mi posso Pronunciare In merito a ciò Detto ciò Cos'altro risponde Bugalalla La live Della criminologa Tra l'altro Notarei che in questa live Ragazzi Bugalalla Non indoffia Non indossa Le cuffiette E quindi Il suono È un casino Perché giustamente Fu riesce Dalle casse E viene ripreso Dal suo microfono Creando un rimbombo Molto fastidioso Sentite L'unico modo Per ovviare Questo problema In teoria Sarebbe mettersi Gli auricolari Però Poi ovviamente L'accusavano Di avere Giù un peschiera Nell'orecchio Che faceva un gioco Con lei Quindi ci sta In ogni caso Ragazzi Bugalalla A questo punto Risponde A quanto affermato Da Bruzzi Circa il fatto Che M.I.T.E.M. Abbia affidato La divulgazione Delle prove A Bugalalla Solo perché In tv Non li vogliono più Dopo il servizio Delle Iene E risponde Mostrando Delle registrazioni Di M.I.T.E.M. Che va a parlare In tv Dopo il servizio Delle Iene Mostra Una registrazione Della trasmissione Televisiva I fatti vostri Dove c'è L'avvocato Petti Rossi Che parla a nome Di M.I.T.E.M. Una puntata Di porta a porta In cui vengono citate Le prove Del caso Cantone Riscontrate Da M.I.T.E.M. Chi l'ha visto TG.Com TG5 Mi oppongo Che non è un'affermazione Ma il nome del programma Studio aperto Insomma Una marea Di registrazioni Oltre ciò Bugalalla Risponde anche Alle cattiverie Permettetemi Che Roberta Bruzzoni Ha detto Nei suoi riguardi Tipo il fatto Che Se lei Vuole fare La criminologa E a 30 anni Ancora non c'ha manco Una specialistica Evidentemente C'è qualcosa Che non va In questo punto Della live Bugalalla Si scalda parecchio Perché dice Rivolgendosi a Roberta Bruzzoni Ma tu che cosa ne sai Che cosa ne sai Se c'è stato Qualche evento Che mi ha impedito Di studiare Qualche evento Di forza maggiore Oltretutto Bugalalla racconta Che a onor del vero L'ha scoperto Soltanto un anno fa Di essere attratta Dalla criminologia Ha fatto un lungo percorso Ha inciampato Nella criminologia E ha scoperto Questa enorme passione Che prima Aveva ignorato E allora Dice Bugalalla Sono una fallita Perché l'ho scoperto Troppo tardi Facciamo così Vi faccio sentire Direttamente Questa clip Visto che questo Ragazzi È il momento Della live In cui Bugalalla Si accende Di più Perché chiunque Non ha una vita Non può aver avuto Che ne so Per esempio Un incidente mortale Che mi ha tenuta ferma Per cinque anni Cosa che tu nemmeno immagini Di cosa voglia dire Non lo sai Non lo sai Che cosa vivono le persone Qual è il loro percorso di vita E magari Arrivano un giorno Quando non è Cioè non è che uno nasce Con la scienza infusa Io ho fatto un percorso Che mi ha portato Qui dove sono oggi A voler studiare criminologia L'ho imparato un anno fa Che volevo studiare criminologia E allora Sono fallita Secondo me fallita È una Che va a dire Delle patacche In continuazione Che tradisce Le famiglie delle vittime Che appoggia Stalker E persone Che insultano Le vittime Che continua A mentire E a mettere in giro Calugne E mentire Davanti all'evidenza Questo Per me È essere una fallita Non non avere una laurea Perdonatemi Però Cioè Scusate Adesso mi è caduta la corona Di nuovo C'è 300 corone Qua cadute Uffa E questo ragazzi Era il botta e risposta Del Del live Di Bugalalla E Roberta Bruzzone Ma a questo punto Ahimè Si torna su Facebook Dove succede Una nuova schifezza Ma questa volta Succede Bella grossa E direi anche Più grossa Delle altre Infatti su Facebook Un utente Che noi chiameremo Col colore Che secondo me Meglio lo rappresenta Cioè Il marrone Ha dapprima Realizzato una parodia Del format Di Bugalalla E in un secondo tempo Si è messo a divulgare Delle foto Di nudo Artistico Della streamer A scopo Denigratorio Continuando anche A postare Delle battute Cringe a sfondo Sessuale Che la riguardassero Ma andiamo Per ordine Un bel giorno Nello specifico Il 7 gennaio All'indomani Dell'epifania Che tutte le feste Si porta via Ma evidentemente I cafoni no Quelli ce li lascia Marrone pubblica ciò Non perdetevi stasera Agli ore 20 Su questo profilo La prima puntata Di Lucio Lalla Crime Lucio Lalla Ragazzi ovviamente Non sarà una parodia Del noto cantautore Bensì di Bugalalla Poco dopo Fucsia scrive Sulla bacheca di Marrone Hai tempo di fare un rutto Prima della diretta Faccina romantica E agli ore 20 Ragazzi Marrone Partorisce Questa attesissima parodia Nel video Vediamo Un signore Che a occhi e croce C'ha il doppio Dei anni Di Bugalalla Forse il triplo Imitare la streamer Spalmandosi il rostetto Fin fuori Dalle labbra Indossando Una parrucca Rossa Di elevatissima Fattura E disegnandosi Dei tatuaggi Sull'avambraccio Che dire ragazzi Il peggior cosplay Che abbia visto Dai tempi in cui Mi sono mascherata Da Batman Ritagliano malamente Il pipistrello Da un foglio di risma Colorato a matita A questo punto ragazzi Fatevi Non lo so Un barile di popcorn Perché questa parodia Dura tantissimo Dura certamente Più del necessario Anzi in realtà Penso che sarò costretta A mostrarvela Solo in parte Cioè a tagliare Alcune parti Perché Effettivamente Dura più di sette minuti C'è praticamente Un cortometraggio E questo videogiornale È già lungo Senza il contributo Artistico di Marrone Quindi diciamo che Vedrò di farvi vedere Solo le parti salienti Cioè Quanto meno deciderò In fase di montaggio Se valga la pena Farvi perdere sette minuti Delle vostre vite così O se non è il caso Comunque Questa parodia Ragazzi Si apre con la sigla Della famiglia Adams Per motivi di copyright Non ve la posso fare sentire Quindi ve la racconto Così a voce Si apre appunto Con la sigla Della famiglia Adams Non so bene perché Cioè il perché Di questa scelta artistica Immagino che sia Per evocare L'atmosfera di black humor Che si respira Nel canale di Bugalalla Quindi prendersi Il gioco della morte Riderci sopra Però non ho capito Perché nel frattempo Lui scenda da una scala Cioè qual è il senso Di questa cosa Non lo so Sarà un riferimento Al deus ex machina Non so bene Come interpretare Questo simbolismo Ma tant'è Vabbè Detto ciò ragazzi Vi lascio alla visione Bene Allora Abbiamo un po' di cose Da raccontarci Abbiamo un po' di cose Da raccontarci Perché sono successe Tantissime cose Sono successe Tantissime cose In merito al documentario Al docufilm Della Brugione Ecco Io dico soltanto una cosa Che Sono tutte balle Tutte balle Le elencheremo Dalla prima All'ultima Elencheremo la prima balla Poi ci saranno Un sacco di balle Tanto tra l'altro Oggi è la giornata Che devo mettere a posto L'albero Quindi metteremo a posto Tantissime balle Grazie Grazie a tutti Grazie anche per essere sempre Su questo canale Lo switch Lo switch Lo click Lo trick Insomma Lo switch Oddio ragazzi Che vibes Da Pio Amedeo Le sentite queste vibes Questa è proprio Una citazione colta Dell'alta comicità Top of the pop Top of the pop Lo switch Lo switch Lo click E ovviamente Tu devi iscriverti Allo switch Poi se non lo vedi Non c'è problema Perché tanto lo carico Su youtube Quindi non ho ancora capito A cosa serve Fare il video Su switch Che poi 3 ore 33 minuti Di Di Cazzate Vabbè A questo punto Comincio una lunga parodia Basata Sulla complicità Di tale Lucio Lalla Con Zeppi In riferimento Al fatto che Bugalalla Continua a difendere L'innocenza Di Mirko Zeppellini Che racconto Tranquillamente I merite Alla difesa Del mio carissimo Amico Zeppellini Zeppellini Una persona Umile Onesta Una persona Che non fa parte Di M.T. Anzi Lui ha chiesto Di essere Nell'Eme Team E adesso Ve lo dico Subito Perché io Ho fatto tutte le prove E che cavolo E no E no E no Lo dico Brava Ecco Scusate Perché Purtroppo Cosa volete Io Voi sapete Che è un brutto vizio Ecco A me piace La vecchia romagna A me piace La vecchia romagna A voi Adesso non so Se questo qua È la stessa persona Di questo qua Perché questo qua Alla fine Mi ha detto No no Io non conosco Ma conosco Un uomo che si omiglia Che sarebbe questo qua Ma questo qua Alla fine Insomma Mi deve pagare Tre mesi di attito In un bilocale A Chicago Sto aspettando Sto aspettando Che mi paga Questo affitto Adesso sono andato a trovarlo Sono andato a trovarlo Mi sta ospitando Penso che a febbraio Rientro a casa Rientro a casa Ecco Ma vogliamo parlare Con queste vittime Di queste famiglie Queste Queste famiglie Queste vittime Guardate come sta bene qua Guardate Oh grazie 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 ancora Guardate Ma se ne è fatto Così Soltamente Poi io Non sono una persona Che bebe Ecco Però Ecco La cosa che vi volevo dire Che adesso andiamo in pausa Non in meno pausa Ma poi presto ci rivedremo Con le altre Con le altre puntate Ciao Grazie per avermi seguiti Su Squinch Squinch Switch Squinch Vabbè Insomma Che dire ragazzi Andremo tutti a Hollywood Io riesumerei John Kaylin E ingaggerei Marrone Per il suo prossimo film Altro che Enzo Iacchetti Altro che Premios Altro che Foib Ovviamente ragazzi Nei commenti Si scatena una grande Ilarità Roberta Bruzzone Non si risparmia Nell'uso di faccine Che ridono E scrive Mi sto sentendo male L'avvocato Serena Gasperini Scrive Muoio Con tante faccine Che ridono Insomma Una strage Poi c'è Poi c'è il solito Branco Che commenta Ridendo a crepapelle Santanico Dice che È un capolavoro Assoluto Oh sta paccata È un capolavoro Assoluto La performance Di Bugalalla Era ridicola Ho capito Santanico Avrà anche un talento Nello scovare I criminali Del web Però nella critica Teatrale Direi che c'è Un po' di lavoro Da fare Dunque ragazzi Questa parodia Rappresenta Un punto di svolta In questa vicenda Infatti diversi youtuber Anche in seguita a ciò Inizieranno a prendere Sempre di più Le difese di Bugalalla E la rete Non la prenderà bene Infatti Santanico Prende queste persone Che difendono Bugalalla E le appende Sulla propria bacheca Per far lanciare Loro pomodori in faccia Ciò ragazzi Accade per esempio A Gematria Giovane youtuber Che parla spesso Di tematiche inerenti Al deep web E alle controversie Dell'internet Gematria Dopo questa mediocre Imitazione Di marrone A Caluccio Lalla Interviene in difesa Di Bugalalla Con delle stories Che adesso vi faccio sentire Ragazzi Può capitare Qualche volta Di sentirvi giù Di sentirvi Magari non abbastanza Di sentirvi Non troppo intelligenti Andatevi a vedere Le storie di Bugalalla Di quello che gli fa il verso Vi si alza l'autostima Ora Queste stories Ragazzi Vengono prese Vengono ripostate Sulla pagina di Santanico Solo che Non c'è nessuna risposta Alle parole di Gematria Non vengono ripostate Non lo so Per argomentare I motivi Per cui si è D'accordo O in disaccordo Con quello che dice No Semplicemente Lui viene messo lì Alla berlina Cioè Santanico Praticamente Scrive Così parlò L'autoestimatore Fine Roberta Bruzzone Ad esempio Ragazzi commenta Vabbè Porelli Fanno tenerezza 12 faccine Che ridono Non mi risulta Che ridere Di un'imitazione Peraltro Riuscitissima Si ha reato 17 faccine Che ridono Siamo la loro Unica ragione Di vita Ormai 11 faccine Che ridono Ma il bello ragazzi È che ha perfettamente Ragione Lei Cioè Ridere di un'imitazione Non dovrebbe Essere reato Ed è propriamente Quello che dovremmo dire Alla Roberta Bruzzone Del passato Che nel 2015 Declamò Che avrebbe Querelato Virginia Raffaele Dopo che questa L'aveva imitata Attraverso una parodia Peraltro Riuscitissima Sarà stato il bene Sarà stato il male O sarà stato bu Ecco A quel tempo Roberta Bruzzone Si sentì di commentare Questa imitazione Di Virginia Raffaele Che aveva scatenato Tante risate In questo modo Chissà se ciò Che le stanno preparando I miei legali Lo troverà divertente Quindi insomma Cioè È facile dire agli altri È fattela una risata Quando l'oggetto Dello scherno Non sei tu Tra l'altro ragazzi Tra le imitazioni Di marrone E quelle di Virginia Raffaele Vorrei ben dire C'è una piccola Differenza di base Anzi ce ne sono due Anzi scusate Ce ne sono tre Allora la prima È che Virginia Raffaele È diplomata All'Accademia Teatrale Europea E mi è sembrato Che qui ci teniamo Tutti al fatto Che chi si diletta Nel fare una cosa Abbia il giusto titolo Per poterla fare O no Marrone è un attore O è un incompetente Senza nessuna esperienza In questo campo Chiedo La seconda differenza È che Virginia Raffaele Ha imitato Centinaia di personaggi Famosi Mentre Marrone Che che se ne dica Ha imitato Solo una persona E tra l'altro Proprio una persona Che da mesi Viene perculata Da una decina Di utenti Ben precisi Che guarda caso Sono gli unici Che si sono fatti Le grasse risate Sotto questa sua parodia La terza differenza È che Virginia Raffaele Dopo aver fatto La parodia Di un personaggio Non si mette A divulgare Le foto di nudo artistico Di quel dato personaggio Ridendoci sopra Quindi a conti fatti Se Virginia Raffaele Era da querelare Io mi chiedo Cioè chissà Se Marrone Avesse riservato Questo stesso trattamento A Roberta Bruzzone Cosa la criminologa Ne avrebbe fatto Di lui Non lo sapremo mai Ma possiamo fare delle ipotesi Abbastanza realistiche Ragazzi Ma comunque ragazzi A Gematria Torneremo tra un attimo Perché ce lo ritroveremo Di nuovo Più avanti A questo punto Succede Questa cosa qui Va in onda su Twitch Questa live Di Bugalalla Dal titolo De Bruzzone Gate In questa live Ragazzi Si toccano livelli Di scandalo Secondi solo a Grazia Che esce dall'hotel Eufemia Bugalalla Dichiara infatti Che finalmente Dopo una lunga attesa Dalle M Team Ha ottenuto Gli indirizzi IP Associati agli account fake Che in questi mesi L'hanno perseguitata Primi fra tutti Gli IP di Sant'Anico Ma non solo Ragazzi Non solo M Team Avrebbe in seguito Richiesto E ottenuto Un documento Che mi pare Si chiami Supena O supina O comunque Su qualcosa O su qualcuno Nel quale In sostanza Ragazzi Ci sarebbero scritte Le generalità Della persona Direttamente collegata A tali indirizzi IP In altre parole M Team Ha dato A Bugalalla Dei documenti In cui c'è scritto Chi cacchio è Sant'Anico Nome e cognome Nonché nomi e cognomi Di chi si nasconde Dietro alcuni Non tutti Ma alcuni Degli account fake Che sono nati Al solo scopo Di denigrarla Perché ce ne sono tanti Per esempio C'è Mrs. Zeppellini Che su Facebook Si è creata questo profilo In cui come vedete Si spaccia Per Bugalalla Nel senso che Utilizza le sue foto Però si fa chiamare Appunto Mrs. Zeppellini Signora Zeppellini Associando quindi La faccia di Bugalalla A quella Della consorte Di Zeppellini Tra l'altro L'immagine di copertina Di Mrs. Zeppellini È lo screenshot Di una storia Che Bugalalla Aveva condiviso Su Instagram Poco prima Di partire Per Chicago Cioè praticamente Lei è seduta Sul water Che fa la pipì E abbraccia I propri gatti Triste Perché a breve Se ne dovrà Separare Come vedete Però in questa immagine Di copertina Al posto dei gatti Mrs. Zeppellini Ci piazza sopra L'immagine Associata a Mirko Zeppellini Comunque Vabbè Chiusa questa parentesi Torniamo a De Bruzzone Gate La live De Bruzzone Gate Si apre Con Bugalalla Che fa l'elenco Di tutti questi utenti Che quotidianamente Prendono parte Al gioco della rete Da prima Elenca Gli utenti Che non hanno Un account fake Ma corrispondono A persone esistenti Facendo nomi E cognomi E mostrando La loro immagine Del profilo Dopodichè Passa gli account fake E li associa A quelli Che secondo Questi tabulati Di M Team Sarebbero I loro veri nomi Spiegando anche Che rapporto Queste persone Hanno tra di loro Ad esempio C'è una Che secondo Bugalalla Sarebbe niente Po po de meno Che la zia Di Giulia Di Sabatino Ce n'è Un'altra Che C'è di cui Non si sono Scoperte Le generalità Però si è scoperto Che acquista Le stesse attrezzature Musicali Usate dalla band Di Roberta Bruzzone Si Roberta Bruzzone Ha una band Non fate domande In proposito Insomma ragazzi Dopo questo lungo Appello La streamer Insinua Che la leader Di tutto questo Meccanismo Che si muove Contro di lei Ormai da mesi Sarebbe niente meno Che la criminologa Roberta Bruzzone Perché dice ciò? Perché Questa rete Oggi Sta aggredendo lei Ma in passato Cito sempre La versione Di Bugalalla In passato Questa stessa rete Questi stessi account Hanno già applicato Questo stesso schema Nei confronti Di altre persone Con cui Guarda caso Ce l'aveva Proprio Roberta Bruzzone Tra l'altro Ragazzi Marrone Ad esempio Condivide Da molto spesso E da moltissimo Tempo cose Che riguardano Roberta Bruzzone Ad esempio Qui Quando Roberta Bruzzone Diceva di avere Denunciato una campagna Persecutoria Da parte di Manuel Piredda Qui Roberta Bruzzone Che parla del caso Di Iara Qui condivide Gli articoli Della criminologa Scritti per il settimana Le giallo Insomma È come minimo Un fan Un estimatore Della criminologa Non so Se magari Possano avere Rapporti di tipo Lavorativo Non è affermio Non lo so Tuttavia Purtroppo Ragazzi Facebook Mi impedisce Di andare Molto molto Indietro Nel senso Che Purtroppo Mi refrescia La pagina Dopo un po' Che scrollo Quindi Purtroppo La tecnologia Ragazzi Non mi accompagna E non Non sono riuscita A scoprire Se quello che dice Bugalalla Sia vero Cioè Non sono riuscita A reperire Dei post Che dimostrino L'applicazione Di questi stessi Schemi Da branco Di questa rete Nei confronti Di altra gente Con cui ce l'aveva Roberta Bruzzone Comunque Sta di fatto Che secondo Bugalalla Roberta Bruzzone È il nucleo Attorno al quale Gravitano Questi profili Fake Che sono Fondamentalmente Suoi fans O persone Direttamente Collegate Alla criminologa E non solo Ragazzi Infatti A un certo punto Bugalalla Rivela Chi Secondo Questi tabulati Si nasconde Dietro Sant'Anico Ebbene M Team Dice a Bugalalla Chi è Sant'Anico Chi è Sant'Anico Ebbene Ragazzi Il profilo Di Sant'Anico Secondo Questi tabulati Di M Team Sulla cui esistenza E veridicità Ovviamente Non mi pronuncio Ve lo sto solo Riportando È stato Riconducibile A diversi indirizzi IP A loro volta Riconducibili Ai numeri Telefonici Di Addirittura Ragazzi Quattro Persone Una delle quali Sarebbe Serena Gasperini Un'altra Sarebbe Niente meno Che La criminologa Roberta Bruzzone Di fronte Di fronte alla notizia Ragazzi Il pubblico È sconvolto Gente che imprega Insomma ragazzi Sta di fatto Che Bugalalla Dichiara Di avere esporto Denuncia Contro Tutta questa rete Che in denuncia Ovviamente Non viene definita Rete Bensì Associazione A delinquere Addirittura Proprio perché Lei Bugalalla Non sarebbe La prima vittima Del loro odio Di gruppo Infatti Dichiara Bugalalla Che questa denuncia Non è stata Asporta Soltanto da lei Ma da più persone E non è stata Asporta soltanto In Italia Ma anche Negli Stati Uniti Porca vacca Potete capire Il motivo Per cui A questo giro Ho scelto Proprio Questa felpa Di pampling A questo proposito Vi ricordo Che potete acquistare Su pampling Questa O altre Felpe Nerd Simpatiche Caltissime Da morire O altre Magliette Altrettanto Simpatiche Potete acquistare Anche le penne Che comunque Di solito Vi giuro Non si fracassano In questo modo Sono io Che sono Particolarmente Violenta Comunque vi ricordo Di usare Il codice Babilonia Perché usando Questo codice Potrete portarvi A casa Un paio Di calzini Gratis A vostra scelta Come Questi qua Che ho scelto Appositamente Perché ci sono Le banane E questa trilogia Come ben sappiamo È all'insegna Della banana Anyway Torniamo a noi A questo punto La guerra Tra le due Facce Della divulgazione Del crimine Italiano Quello televisivo E quello In streaming Di vampa Ulteriormente Perché le accuse Di bugalalla Ragazzi A questo punto Diventano Gravissime E a questo punto Le cose sono due O bugalalla Dice la verità E in questo caso Scopriremo Che Roberta Bruzzone Si è creata Effettivamente Dei profili Fake Da usare Come Dei Dei Tirapiedi Non lo so Come dei giustizieri Che dessero manforte Alle proprie tesi E andassero a spaventare I propri oppositori Oppure Bugalalla Sta dicendo Il falso E in questo caso Scopriremo Che Metim Effettivamente Crea E spaccia Documenti Falsi Come dei falsi Indirizzi Pi Dei falsi Supina Supena O su quel che è Insomma Dei falsi Tabulati Ragazzi Rendiamoci conto Che in questa Vicenda Abbiamo una sola Certezza E cioè Che quando Finalmente Questa storia Sbarcherà In tribunale Qualunque sia L'esito Per noi Sarà un colpo Di scena Eclatante A prescindere Cioè Perché se ha ragione Una Oh mio dio Se ha ragione L'altra Oh my god Insomma ragazzi In qualsiasi In modo si evolverà Questo scontro Tra Roberta Bruzzone E Bugalalla Una cosa è sicura Il nostro shock Non può che peggiorare Ma come reagisce Il profilo di Sant'Anico Dinnanzi all'accusa Di essere Roberta Bruzzone Serena Gasperini E altre due persone Intanto Ragazzi Pubblica Questo post Care amiche E cari amici Accendiamo oggi Una candelina Per l'unico Superstite Neuronale Al quale spetta Il compito Di gestire Il cervello Della Bugalalla In mezzo ai commenti Della solita rete Ce n'è uno Che mi pare Abbastanza esplicativo Ovvero quello di Viola Che scrive ciò Certo che se risolvono I casi di cronaca Come scoprono i fake Il crimine mondiale Alle ore Contate Comunque ve la dico io La verità San Sant'Anico È mio nonno Le risponde La criminologa Con grasse risate E Con questa affermazione Beh Ora è chiaro a tutti Perché su ogni caso Collezionano Clamorosi fallimenti Da questi commenti Si evince Che la rete È pronta A smentire Clamorosamente Di essere stata Sgamata Anzi Sembra proprio Che secondo loro Bugalalla Abbia preso Un bell'abbaio O più semplicemente Abbia declamato Delle cavolate Sull'altro fronte Però Ovvero quello di Bugalalla Diversi personaggi Come vi accennavo Si schierano Dalla sua parte E tra questi Ragazzi C'è anche la youtuber Sara Buero La quale realizza Un video In cui semplicemente Si pronuncia In difesa Di Bugalalla E contro Determinati Modi di comunicare Specificando Tra l'altro All'inizio del video Che della diatriba Di M team A lei non frega niente Ebbene ragazzi Anche Sara Viene subito Appesa Sul profilo Di Sant'Anico Dove viene schernita Nei commenti Sempre dalla stessa rete Nello specifico Sant'Anico Cosa fa Screenshotta Un commento Che Bugalalla Lascia Sotto il video Di Sara Buero E poi Liquida Con una battutina La youtuber Leggiamo prima Cosa dice Bugalalla In questo commento Ciao Sara Ti ringrazio infinitamente Per questo video E per le tue parole Sei simpaticissima A parte ciò Grazie per esserti unita Alla mia voce Per denunciare Questo orrore E questi comportamenti Mostruosi Ti abbraccio forte Sei davvero Una bella Una bella scoperta Nuova iscritta Novità Abbiamo scoperto Che l'account fake Più terribile Sant'Anico È gestito Da 4 ip diversi Uno di questi È la dottoressa Bruzzone In persona Quindi Sant'Anico Condivide questo screenshot Su facebook E lo commenta Così Truffatrice Bugalalla Dimmi i primi 5 numeri Del mio ip Bugiarda criminale Vi presento comunque Una nuova giustiziera Anti boomer Bulli Nei commenti La rete Ovviamente Ragazzi Inizia a perculare Sara Cioè in pratica Invece di rimanere Sul discorso E rispondere direttamente Ai contenuti Del video Di Sara Argomentando Ragionando Appunto Rispondendo La prendono Per il culo Perché lei fa i tarocchi Cioè concentrano L'attenzione Sul fatto che lei Faccia i tarocchi E si mettono A schernirla Per questo motivo Infatti Roberta Bruzzone Scrive Pure le cartomanti Faccine che ridono Certo la bugamelli Non si fa mancare Proprio niente Anche le cartomanti Ragazzi Come gli attori Hanno la rogna Il commento successivo Invece ci è molto utile Infatti Roberta Bruzzone Risponde In modo più Dettagliato Alle pesanti accuse Che le ha rivolto Bugalalla Leggiamolo Leggi il delirio Di questa bugamelli Io non ho mai minacciato Nessuno Quindi questa dichiara Apertamente Di perseguitarmi Invitando chiunque A presentare False denunce Contro di me E' arrivata a dire Che io mi nascondo Dietro il profilo Di santanico Altra falsità Facilmente dimostrabile Pensa il livello Di delirio Persecutorio E la gravità Delle accuse Mosse in maniera Ossessiva e persecutoria Pensa che ossessione Quella vera Quella pericolosa Che divora Questi soggetti Ho già avvisato Chi di dovere Lunedì andrò Ad aggiornare La denuncia Quella risponde Santanico Hanno yippie E a questo punto Devono pubblicarli Altrimenti Cazzate su cazzate Come sempre Risponde Roberto Abruzzone Ma ovvio Che sono cazzate Colossali Messe in giro Con il preciso obiettivo Di perseguitarmi Comunque alla fine Per inciso Ragazzi Sara Buero Ha rimosso il video Realizzandone un altro In cui dice Che forse Aveva sbagliato A comunicare Perché sotto Nei commenti Si era generato Un ambiente Malsano Ma Sara Buero Ragazzi Non è stata l'unica A essere Bellamente sfottuta Sul profilo Di Santanico Infatti Gematria Che oltre ad avere Diveso Bugalalla Eppure comparso Nella live De Bruzzone Vabbè Vabbè Siccome Gematria Non so Non so neanche Cobalt In televisione In televisione A questo punto A questo punto Ragazzi Arriva il giorno Funesto In cui la rete Si imbatte In delle foto Erotiche Di Bugalalla Foto di nudo Artistico Che circolano Sul web Nello specifico In un sito Che non nominerò Fateveni una ragione Ma diciamo Che questo sito Non ha un nome Allegro Mettiamola così Cosa succede Nello specifico Succede che Un giorno Marrone Trova queste foto Di nudo Ne prende una Fa un fotomontaggio Mette il logo Di Mteam Sulla Fagiana Di Bugalalla E piazza Questa immagine Sul proprio profilo Infine Soddisfatto Dell'opera d'arte La commenta In questo modo Ops Però UM Porn Ma non finisce Qui Perché Tre giorni dopo Marrone Scrive anche Questo post Bugaporn Stanotte Ti ho pensato Cioè Parla chiaro Ti sei fatto Un seghino Pensando a lei Che schizzo Cioè Complimenti Ragazzi Complimenti Ragazzi Questa rete Critica Bugalalla Perché rutta Però lascia Che Marrone Scriva queste cose E di ciò Non si scandalizza Minimamente Sono famoso Sono famoso La bugaporn Mi ha citato Nella diretta Ah Sì Ah Very good Yes Yes Ancora Spingi Em Scusate Quindi pubblicare una foto Scelta tra le più soft Prelevata con tutta la disponibilità Del web Hai bisogno Con tanto di poste Di tappeto rosso Ti sentirti onorata Da quel latitante Per avere il suo appoggio Dei loro avvocati Faccine che ridono a crepapelle Faccine che ridono a crepapelle Punto Così A caso Quale avvocato poi Quello che parlava con l'auricolare Nelle riprese di Mediaset Secondo me puoi sostituire tranquillamente Arisa Siffredi Riposa in pace Cioè per queste persone esistono solo due pornoattori Cicciolina E Rocco Siffredi A parte ciò Ma rip Cioè ti sembra il caso di utilizzare riposa in pace Che potrebbe vagamente suonare come una minaccia Ma forse questa è la parte Meno controversa ragazzi Cioè la parte iniziale Mi ha veramente fatto vomitare Ah sì Mi ha citato nella diretta Ah sì Ah very good Yes yes Vabbè a questo punto ragazzi Bugalalla Comincia a dire Smettete subito di condividere queste foto Perché queste foto Fanno parte di un servizio fotografico Divulgato illegalmente E queste foto sono già in causa Per revenge Quanto gliene frega alla rete di queste dichiarazioni Zero Marrone infatti condivide sulla propria bacheca facebook Un collage delle varie foto erotiche di Bugalalla Censurando con un misero minuscolo puntino rosso Le sue parti intime Lo stesso Marrone si autocommenta Altro che chiudere la bocca qua E tante faccine che ridono Questo riferendosi sempre al fatto Che nella live di Bruzione Gate Bugalalla abbia dichiarato Che la rete stesse cercando di chiudere la bocca Abbiamo sentito la clip poco fa Invece Marrone Fa capire apertamente Che tranquilla Non ha intenzione di chiuderti la bocca Santanico invece commenta Ma secondo voi che numero calza? Il 45? Perché tra le altre cose Nella foto si vedono anche i piedi Di Bugalalla Esattamente c'è il numero di piede Cosa dimostra? Cioè avete trovato delle impronte Che portano alla truffa di M.T.M.? Chi lo sa? Bugalalla intanto ragazzi Continua a dire che stanno continuando a fare revenge porn Perché quelle foto fanno parte di una causa per revenge porn Lei non ne ha autorizzato la divulgazione sui siti in cui si trovano E allora ragazzi Cobalto Prende la palla al balzo E aggiunge questa informazione Nella sua lista di cose Che le rendono M.T.M. a dir poco sospetta Perché come? M.T.M. è tutto specializzato Proprio nella rimozione di materiale informatico Divulgato senza consenso E quindi nei casi di pirateria E di revenge porn E Bugalalla che lavora per loro C'ha foto sue di nudo In giro per l'internet Condivise illegalmente Che non sono state tempestivamente bloccate Quei qualquadrano un cosa Per cui ragazzi Scrive su Facebook Cobalto E se le foto artistiche di Chiama Bugalalla con il nickname Che è affibbiato a Bugalalla Su quei siti Sapete no? Un nickname un po' hot Tra parentesi Bugalalla sono ovunque Anche su siti porno Cos'altro vi serve per capire Che M.T.M. è una truffa bella e buona Complimenti a chi da 8 anni Perseguita colpi di puta Una che al confronto potrebbe chiedere La beatificazione Mi sta riferendo addirittura a Raquel ragazzi La vedova di Mario Biondo Vedi che giro Andiamo avanti Bugalalla a questo punto ragazzi Continua a dichiarare che la rete Che lei chiama ormai Bruzzone & Co Dando per scontato che Roberta Bruzzone sia la leader di questa rete Le stia facendo revenge porn Quanto gliene frega la rete di queste dichiarazioni? Zero elevato a mille Addirittura si mettono in moto per smentire queste dichiarazioni Cioè il fatto che lei stia subendo revenge porn Infatti per cominciare Fucsia nel tentativo di giustificare Le condotte di Marrone Pubblica sul profilo di Appunto di Marrone Lo screenshot di un post Con cui Bugalalla su Instagram Ha annunciato il suo ritiro Dalla piattaforma OnlyFans Vi ricordate ragazzi che cos'è OnlyFans? Ne abbiamo parlato In questo mega video giornale E si tratta in pratica di un social network Molto simile a Instagram In cui però per seguire qualcuno Ti devi abbonare al suo profilo E per questo è sovente utilizzato Dai sex worker e dalle sex worker Per condividere foto e video erotici Non tanto pornografici Bensì appunto erotici Prima leggiamo il post originale Scritto da Bugalalla E con immensa gioia Che giungo alla conclusione Del mio percorso su OnlyFans Ammetto che mi è servito Per mettere il piatto a tavola E pagare le bollette Erano entrate facili E devo confessarvi che per un bel po' Guadagnavo meglio lì Che su qualsiasi altra piattaforma di contenuto Ultimamente mi sono sempre di più allontanata Da questo mondo Che in effetti Non mi ha mai fatta sentire davvero apprezzata Grazie a voi Ho trovato il mio spazio E la mia dimensione Sia su Twitch Che su YouTube Quindi Dite addio alle mie zinne Ma non prima di approfittare Dell'ultimissimo mese Con lo scontone E dai Fatemi vendere un'ultima volta Fuxi ragazzi Commenta in questo modo Queste parole di Bugalalla Ecco l'ennesima dimostrazione Della tendenza a mentire Della Bugamelli Per perseguitare gli altri E istigare all'odio Vi ricordate la storia del falso arresto E la bugia del mancato rientro in Italia Perché si sente minacciata? Bene Ora abbiamo la prova Che ha mentito Anche in merito alla questione Del fantomatico Revenge porn Leggete bene Cosa scrive lei stessa Sul suo profilo Instagram Ammette di aver pubblicato Foto porn Per guadagnarci sopra E invita i suoi followers A utilizzare l'ultimo mese Di abbonamento Per vendere le sue zinne E anche molto altro Proprio una bugiarda seriale Allora Ragazzi Su questo punto Mi piacerebbe molto Fare due chiacchiere Perché entriamo Nel campo Di cui più Mi appassiona Chiacchierare Allora Intanto Mettiamo da parte Questa causa Di revenge porn Di cui parla Bugalalla Ne parleremo meglio Più avanti Perché comunque Se anche Non ci fosse Nessuna causa In corso Se anche Queste foto Che loro stanno Contribuendo A moltiplicare Condividendole Su Facebook Non fossero State diffuse Illegalmente Su internet E se anche Fosse stata La stessa Bugalalla A condividerle Che so Su OnlyFans In prima persona Comunque Queste Queste azioni Di marrone Questo condividere Le sue foto Sulla propria Bacheca Facebook Comunque Sarebbe Non sbagliata Proprio Una schifezza Perché ragazzi Perché le cose Nel 2022 In base alle ultimissime Scoperte nel campo Della parità Di genere Stanno in questo modo Non ha la benché Minima importanza Che una donna Una persona In generale Abbia pubblicato Le sue zinne O qualsiasi Altro tipo Di materiale Erotico Su internet Il punto È che nessuno Ha il diritto Di prenderlo E ripubblicarlo Sui propri spazi Perché in quel caso Si tratta di condivisione Non consensuale Tutto gravita intorno Al concetto Di consenso Questa parolina Così facile Da pronunciare Così difficile Da ficcare Nella testa Delle masse In che senso Queste sono Condivisioni Non consensuali Nel senso Che se Bugalalla Ha postato Delle foto Ad esempio Su Onlyfans Lei ha detto Sì Le metto Sulla mia pagina Di Onlyfans E dunque Ha prestato Il suo consenso Per postarle Sulla sua pagina Di Onlyfans Tuttavia Bugalalla Non ha mai detto Sì Ok Le metto Sulla pagina Facebook Di Marrone Quindi Non ha mai Prestato Il suo consenso Per postarle Sulla pagina Facebook Di Marrone Cosa significa Tutto ciò Che nel momento In cui Le sue foto Vengono prese E spostate Piazzate Da un'altra parte Senza il suo consenso Già proprio NCS Ragazzi Se poi Questo spostamento Lo si fa Al solo fine Di denigrarla Schernirla Prenderla Per sozzona Si tratta Di una punizione Che è sessista E misogina Perché è basata Su schemi Che vedono La donna Che esibisce Il proprio corpo E cioè Usa come cacchio Vuole Il proprio corpo Come una persona Che non merita Rispetto E che non merita Un trattamento Dignitoso In base a questi Schemi Esistono donne E donne Donne pudiche Che si coprono Non mostrano il corpo E loro Si Meritano che la società Le tratti con rispetto E dignità E donne che invece Mostrano il proprio corpo E queste Meritano che la società Le disprezzi Non si devono lamentare Se subiscono L'agonia mediatica Perché Se la sono cercata Questa cosa È una discriminazione Che non può esistere Perché tutti Abbiamo il diritto A pari dignità E tutti Dalla donna più pudica A quella più sfrontata Dall'essere umano Più onesto Al più immondo Degli strotti Non esiste Un'eccezione Alla regola Abbiamo Il diritto Di non essere Denigrati Non soltanto Chi non si spoglia E chi si copre E non mostra le zine Tutti Ragazzi Tutti Proprio in qualità Di esseri umani Condividendo le foto Di nudo Di bugalalla Accompagnate A post Come questi Ho scritto Oh yes Spingi Stanotte Ti ho pensato L'intento punitivo Di stampo misogino A me pare lampante Cioè alla fine Il suo essersi spogliata Non ha niente 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 a che vedere Con M team Ragazzi Si sta solo Cercando di Farla vergognare E che questa vergogna Le serva da punizione Per essersi messa Con M team E se il fine Non è quello Di punirla Deve essere allora Quello di boicottarla Dimostrando a chi la segue Che non è una persona Credibile Perché non è una persona Credibile Perché in base Allo schema Sessista Se ti sfogli Non puoi più essere Presa sul serio Viene meno Qualsiasi tuo merito Intellettivo Nel momento stesso In cui Mostri il tuo corpo Meno 50 punti Al tuo quotiente Intellettivo Appena Clicchi Condividi In una tua foto Di nudo Che poi a proposito Di opinioni Per carità Ragazzi Ognuno può avere La propria opinione Sul fatto Che fare soldi Uscendo le zin Sia rispettabile O meno Cioè per qualcuno Le sex worker Non sono persone Rispettabili Così come gli attori O le cartomanti Non stiamo qui A discutere di questo Ma comunque Il fatto che la condivisione Non consensuale Sia un gravissimo Atto di misoginia Secondo me Non dovrebbe essere Oggetto di discussione Cioè è evidente Che sia una cosa Che può fare Molto molto male A chi subisce Queste azioni Perché come ben sappiamo Questo tipo di gogna Può indurre pensieri suicidi Quindi perché farlo Perché non evitarle Queste cose E mi dispiace Però dire Ah ma le ha postate Lei per prima Ragazzi Non è una giustificazione Perché si traduce In Se l'è cercata È lo stesso schema Di pensiero Di chi dice All'anno stuprata Però Lei aveva le cosce di fuori È uscita di sera È uscita da sola Ha bevuto Aveva il perizoma Ha fatto le avanzi Per prima Se non voleva essere Scusata Si comportava diversamente Ragazzi È la stessa cosa È solo la versione digitale Di questo ragionamento Ma siamo sempre lì Ma andiamo avanti Bugalal A questo punto Ragazzi Dichiara Che se queste persone Continuano a scaricare E promuovere il sito In cui ci sono Le sue foto di nudo Che tra parentesi In tutto ciò Non è manco OnlyFans Ma a quanto ho capito È proprio un sito X E magari queste foto Se le scaricano pure Non soltanto Recano un danno a lei Non soltanto Finiscono coinvolti Volenti o nolempti In questa sua causa Di revenge porn Ma Dice Bugalal Se proprio di me Non ve ne frega niente Quanto meno Sappiate che indirettamente Sostenete La Cosa contro i bambini Perché il sito Da cui scaricate Queste immagini È di proprietà Di una persona Indagata Per la divulgazione Di foto Della cosa Contro i minori I bambini Bugalal Ragazzi Non specifica Il come E il perché Ma rilascia Semplicemente Questo avviso E in più dice Questo sito È a pagamento Quindi Devo dedurre Che per avere queste foto Bruzzone Stiano pagando Finanziando Questa persona Indagata Per la divulgazione Di foto Delle cose Contro i bambini In sostanza Ragazzi Senza troppi giri Di parole Bugalal Accusa la rete Di star finanziando Questo sito Di starle facendo Revenge porn Di star supportando Una persona Contro i bambini Ma soprattutto Accusa di ciò Roberta Bruzzone In persona Lei sta pagando Lei sta combinando Tutto sto macello Perché ragazzi Ricordiamoci che per Bugalal È la criminologa Che tira le fila Della rete Quindi è responsabile Delle loro azioni E dulcis in fundo La criminologa Si nasconde Lei stessa Dietro qualche fake Tipo santanico Quindi Cioè La sta accusando Di revenge porn Sono accuse Gravissime ragazzi Sono parole Che ci spaventano Molto È a questo punto Che ragazzi Cobalto Si inalbera E pubblica Questo post Ma fai proprio schifo Non usa mezzi termini Usare la Cosa contro i bambini Per spostare l'attenzione Dalle tue porcate Che sono online Da gennaio 2021 Ci sono le foto I forum Che parlano Dei tuoi nudi Troverete anche Chi racconta Cosa gli inviava Su Onlyfans Cobalto A questo punto Pubblica Lo screenshot Del sito In cui Ci sono Queste foto Di Bugalala Evidenziando il nome Usato Dalla streamer O comunque attribuito Alla streamer Perché come vi accennavo Poco fa In questo sito Bugalala Non viene chiamata Bugalala Non viene chiamata Manco Francesca Bensì con un nome Che non c'entra niente Che ha un sound Più piccante E per di più Ragazzi Cobalto Condivide lo screenshot Di un forum In cui Si parla Di questa cosa Infatti In questo forum Un utente Scrive C'è un set Su Sito Il nome del sito Ma si fa chiamare Non Bugalala A un certo punto Ragazzi Però succede Una cosa Un utente Trova un post Sul profilo Instagram Di Bugalala Che fa mettere In dubbio La tesi Narrata Da Bugalala In base alla quale Tali foto di nudo Sarebbero finite Su internet Senza la sua Previa autorizzazione Questo post Ancora oggi Presente Sul profilo Instagram Di Bugalala Risale al 2020 Ed è palesemente Una delle foto Di questo Servizio fotografico Incriminato L'utente In questione Ragazzi Quello che Trova Questa foto E la condivide Negli spazi Di cobalto Posta lo screenshot Di questo post Instagram Che noi Andiamo a leggere Prima di subito Il mio primo set Con Melzoar Per E tagga la pagina Di quel sito Sul quale Queste foto In teoria Sarebbero state caricate Illegalmente Stando a quanto Ha raccontato lei Fino ad ora E ora sono Una Opeful Qualsiasi cosa Significhi Se volete sapere Quando uscirà Il set E vedere Altre foto In anteprima Seguite il mio profilo Ma leggiamo ora Cosa scrive L'utente Che ha trovato Questo post Riguardo Questo post Non ho seguito Ma allora Ormai È completamente Assuefatta Al metodo Zeppellini Chiunque ha un minimo Di cervello Capisce che lei Il servizio fotografico L'ha fatto E l'ha inviato A questo sito I quali Hanno messo Su ogni foto Il copyright È vero Che questo sito È un sito A pagamento Da lì Nel gennaio 2021 Le hanno diffusi Ovunque E allora Succede a tutte Pensava che a lei Non sarebbe successo In tutto ciò Cosa c'entra Il revenge poll Il bullismo E la cosa Contro i bambini Eccetera Ma non facciamo Ridere i polli Ma non ho capito Si vergogna Di quel servizio Fotografico Non dovrebbe Se l'ha fatto Ne era cosciente E consapevole Sono scelte Ma poi sta dicendo Che questo sito È un sito Contro i bambini O che le ha rubato Le foto Magari segnaliamo Queste dichiarazioni Alla redazione Di questo sito X E vediamo La risposta Clamoroso Lo dichiara Lei stessa Ad agosto 2020 Memoria corta Quindi capito Ragazzi In sostanza Quest'utente Dice ragazzi L'abbiamo Smascherata In questo post Bugalalla Dichiara apertamente Che è stata Lei in prima persona A divulgare Le foto Su questo Fantomatico Sito web C'è scritto A questo punto Ragazzi Interviene Roberta Bruzzone Che proprio Sotto questo post Di cobalto Raffigurante Bugalalla Su questo Sito hot Non che è il nome Con cui trovare Le sue foto Commenta Ciò 25 faccine Che ridono Devono proprio Essere messi male Per inventare Simili Cazze Colossali E altre 6 faccine Che ridono In più ragazzi Un utente Spiega Che non è vero Che queste foto Siano a pagamento E aggiunge Dell'altro Che non so Quanto sia vero Comunque ve lo riporto Ma chi ha pagato Sono gratis Per cielo e per male E per male Da un anno Non c'è bisogno Di pagare E comunque Essendoci il copyright Questo sito A questo sito Lei ha venduto I diritti Le foto Non sono più sue Può infinocchiare Sui followers In piena tempesta Ormonale Adolescenziale Ma non Gente dotata Di cervello Cobalto a questo punto Ragazzi Commenta Inserendo Un link Di WeTransfer Contenente Tutte le foto Di nudo Di Bugalalla Comodamente scaricabili Gratis Per chi non lo sapesse WeTransfer È un semplice servizio Di condivisione Multimediale E ragazzi Io veramente Qui pure Quando la rete Sta recuperando punti C'è manco il tempo Che si alza E si va a sedere Subito Dalla parte Del torto Cioè Cobalto Ha appena dimostrato Inequivocabilmente Che Bugalalla Aveva posato Per questo sito Un gol A favore di Cobalto 50 punti Alla rete Chiudete il discorso No 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 Bisogna necessariamente Mettere i punti Su lei Quindi Cobalto Cosa fa Mette alla merce Di chiunque Il link Con quelle foto Scaricabili gratuitamente Foto che Bugalalla Ha dichiarato In pubblico Di voler bloccare Cioè Che poi sia vero Che poi sia falso Quello che ha detto Che lei Sia sincera O una bugiarda Se lo sa solo lei Però intanto Nel dubbio Non c'è motivo Di contribuire Alla diffusione Di questo materiale Il dubbio Dovrebbe essere sufficiente Basta Cioè Ma le basi Per farsi ragione Ragazzi Niente Vabbè Cobalto ragazzi Pubblica anche Quest'altro post In cui scrive Bisognava proprio pagare Per avere le foto Di nickname Piccante Di Bugalalla Ripeto Fai schifo Allega lo screen Della sua ricerca A google Che riporta Le foto di Bugalalla Nuda Disponibili A gratis Sotto questo post Un utente Ragazzi Scrive Ma soprattutto Come le sovviene Di associare La diffusione Di questo materiale A Roberta Bruzzone E risponde La criminologa In persona Semplice La bugamella È una bugiarda Patologica Mente sapendo Di mentire E lo fa Per spacciarsi Da vittima Che non è Per istigare I suoi followers A perseguitarmi Insieme a lei Il meccanismo È sempre lo stesso Molto molto chiaro Ne risponderà Nelle debite Sedi Visto il fermento Ragazzi Che questa situazione Sta suscitando Bugalalla Decide di realizzare Una live In cui spiega In modo molto dettagliato Questa situazione E cioè Perché Le sue foto Siano oggetto Di revenge E in che senso Chi le scarica Sostiene Indirettamente Questa cosa Contro i bambini Lo stampo Più o meno È il video Che non avrei mai Voluto fare Cioè nel senso Bugalalla Bugalalla In questa live Vi faccio una sintesi Il progetto Però alla fine Ci ha ripensato Cioè Si è guardata meglio Ste foto E ha detto Anche no Ha deciso dunque Che queste foto Non le avrebbe messe Più online E che fosse meglio Piuttosto Tenersele per sé Tanto che Ragazzi Dice di non averle postate Manco sulla sua pagina Di OnlyFans Tuttavia Purtroppo Alcune di queste immagini Finiscono online Lo stesso E senza la sua autorizzazione E Bugalalla Si ritrova piazzata Senza il suo consenso Su un sito estero Questo sito Offriva il seguente servizio Se non eri abbonato Potevi scaricare Un numero limitato Di foto Con un download lento Se invece Eri abbonato Potevi scaricare Tutte le foto Che volevi Con un download veloce Quindi ragazzi Sta di fatto Che comunque Le sue foto Risultassero scaricabili Anche gratuitamente Ma non solo In man che non si dica Le foto di Bugalalla Vengono scaricate In massa E piazzate Su diversi altri siti In pratica Bugalalla Finisce in quella trappola Per cui Diventa tanto difficile Far sparire Il proprio materiale erotico Dall'internet Perché c'è Questo ruba ruba Di Da parte Dei vari proprietari Di siti X Che rende la cosa Molto difficile Da gestire Per il soggetto Raffigurato Nel materiale In questione Al che Ragazzi Racconta Bugalalla Io Allora Mi rivolsi A Mteam Quindi Scopriamo Una cosa Nuova E cioè Che Bugalalla Prima ancora Di collaborare Con Mteam Ne era Già stata Cliente Al tempo Dunque Mteam Che cosa Ha fatto Per lei Secondo Il racconto Di Bugalalla Mteam Ha Mandato Immediatamente A tutti Questi Vari siti Che avevano Messo le sue Foto Online La richiesta Di blocco Di Delle immagini Delle foto Raffiguranti Bugalalla E tali foto Sono state Cancellate Molto rapidamente C'è giorno dopo giorno Sito dopo sito Andavano Sparendo Ben presto Anche il sito Dal nome Poco Allegro Al quale ci siamo Riferiti più volte Fino a questo momento Le butta giù Le cancella Nonostante Da quanto si è capito Il servizio Aborigine Lei lo aveva realizzato Proprio per questo Sito Solo che poi Ci ha ripensato Mi sono accorta Che sono ancora Molto confusa Su questo punto Ma vabbè In ogni caso Questo è quanto Si è capito Fino ora Una beata minchia Tuttavia ragazzi Racconta Bugalalla Mteam Non è riuscita A buttare giù Le foto Proprio da tutti Tutti i siti Perché Ce ne sono alcuni Su cui Mteam Fatica ad avere Più potere Infatti ci sono Dei siti Che sono registrati Nell'est Europa Sui quali Mteam Non ci ha potuto Il che è un problemone Perché se ste foto Non le blocchi Proprio su tutti I siti Siamo sempre lì C'è un attimo Che qualcuno Le scarica Le piazza Da un'altra parte E stiamo punti a capo Cioè ricominciano A circolare In modo virale Sul Sulla X side Dell'internet Quindi Che cosa succede Bugalalla Si butta sul penale Praticamente Perché vuole che ste foto Spariscano E la sua diventa Una vera e propria Causa penale Per cui A questo punto Bisogna rintracciare Il proprietario Di questo sito estero Ora Si scopre Che questo Proprietario Del sito estero È un tizio Losco Che già altre Quattro persone Di cui tre donne È un uomo Hanno denunciato E per lo stesso motivo Cioè lui guadagna Su un materiale erotico Che è di proprietà Di terzi Che non gli hanno dato L'autorizzazione Di lucrarci sopra Solo che il caso Di Bugalalla Risulta addirittura Più grave Degli altri quattro Perché gli altri Erano casi di violazione Del copyright Cioè queste quattro persone Praticamente avevano Condiviso volontariamente Il materiale Ma su altri siti Dal quale Questo tizio Losco Li avrebbe rubati Nel caso Invece Di Bugalalla Ha Preso E messo Su internet Delle foto La cui divulgazione Non è mai stata Autorizzata Dal soggetto Ritratto In queste immagini Cioè Lei Bugalalla Francesca Bugamelli Quindi in questo caso È diverso Perché si esce Dal reato Di violazione Del copyright E subentra Il reato Di revenge Qual è invece Il discorso Della cosa Contro i bambini Praticamente Sempre questo Tizio Losco Il proprietario Di questo sito Estero Risulta proprietario Anche di siti Di queste stesse cose Ma Che ritraggono Minorenni Questo è quanto Ora Le domande Ragazzi Sono ancora Tante Lo so Bugalalla Comunque Non ha Raccontato Alcuni dettagli Tipo Come i proprietari Di questi siti Siano entrati In possesso Delle sue foto Di nudo Se il colpevole Di questo Revenge Porn È stato Il fotografo L'ex fidanzato Il proprietario Del sito Un hacker Il social media Manager Jean Paolo Non lo sappiamo Ragazzi Lei non l'ha spiegato Non l'ha specificato Quindi Come dice Roberta Bruzzone Ragazzi Basta Se ne riparlerà Nelle debite sedi Per quanto Possiamo prendere In giro Questa frase Ne parleremo Nelle debite sedi In realtà È la cosa Più sensata Perché Queste cose Sono troppo delicate Cioè Bugalalla Sembrava Alquanto provata In live Mentre raccontava Questa storia Quindi insomma Ripeto Trovo del tutto inutile Farle la guerra Sui social Ha maggior ragione Su questa vicenda C'è il dubbio Il solo dubbio Che lei possa dire La verità Secondo me Dovrebbe essere sufficiente Per smetterla Di divulgare link Che rimandano Alle sue foto E che le rendono Facili da scaricare Anzi a mio parere Sarebbe C'è la cosa migliore Sarebbe Eliminarle Nel frattempo Perché in ogni caso Non è questo Il modo giusto Per farsi ragione Cioè Non è dicendo Guardate C'è il culo Di bugalalla online Che la rete Potrà mai dimostrare Che è Mtme una truffa Cosa succede A questo punto Cambiamo capitolo Ragazzi Succede che Uno degli utenti Della rete Mette Questa immagine Del profilo Questa foto Ragazzi Che cos'è È la foto Della facciata Della casa Di bugalalla Ma non finisce qui Infatti Un altro account Si è messo Come indirizzo Su facebook L'indirizzo Di casa Di bugalalla Scrivendo come Mestiere Imbroione Presso Putzio Vi ricordate Quando parlavamo Di doxing La divulgazione Di informazioni Personali Questo è Un esempio Da manuale Vabbè ragazzi A questo punto Concluderei Parlando Di questo Gruppo Praticamente È nato Su facebook Un gruppo Che si chiama I delusi Dalla buga Che ad oggi Ha cambiato nome Diventando I delusi Dalla buga Più Fermiamo i truffatori Di m Scusate Fermiamo i truffatori M team Compaio dal futuro Per fare una puntualizzazione Non necessaria Si tratta di una pagina Non di un gruppo Una pagina Allora Questo gruppo Ragazzi Secondo me Nasce in buona fede Nel senso che Nasce come gruppo Di persone Che effettivamente Erano fan di bugalalla La sostenevano Su twitch Ma hanno notato Ultimamente Dei comportamenti Poco trasparenti Da parte della streamer Perché hanno creato Un gruppo Invece di parlarne Con lei La risposta Ragazzi È esattamente Il motivo Per cui queste persone Si dicono Deluse Dalla buga Infatti Dicono che Ultimamente Durante le sue live Quando qualcuno In chat Scriveva Di cuvare Sospetti Sull'emmetimmo Di avere dei dubbi Su quanto Bugalalla Stesse dichiarando La streamer Reagiva Facendo il nome Di quell'utente Che avanzava Tali dubbi Rivolgendosi però In modo scortese E dicendo Al resto Della chat Che quell'utente Fosse uno dei fake Di Roberta Abruzzone Mandato appositamente Per seminare Dubbi Su Di Lei In questo modo Il resto Della chat Si scagliava Contro tale utente Il quale Si ritrovava A subire Una shitstorm Improvvisata Alla fine Della fiera Quest'utente Veniva pure Bloccato Dalla streamer E non poteva Più interagire Con lei In sostanza Quindi ragazzi Questi delusi Accusano Bugalalla Di averli messi Alla berlina Con la chat Stessa Di cui loro Facevano parte Vediamo Qualche Esempio Allora Parliamo di Un utente Che chiameremo Blallo Blallo Un giorno Ragazzi Ha commentato In questi termini Sotto il post Di Cobalto A prescindere Da tutto Perché nascondete Le vostre identità Se siete nella ragione Di cosa avete paura Sarebbe utile Secondo me Un faccia a faccia Live Non credete A me sembra solo Che avete del gran tempo Da perdere Trovatemi un lavoro serio Nel frattempo Ho trovato un altro commento Di Blallo Sempre Lasciato Sotto Un post Di Cobalto In cui scrive Comunque guarda caso Nessuno di voi Ci mette la faccia Come mai Quindi ragazzi Blallo sta Andando contro la rete Dicendo Metteteci la faccia Confrontatevi Con Bugalalla Se non avete niente Da scondere A questo punto Cobalto Le risponde C'è un bot In risposta E lei da prima Scrive Grazie per la risposta Lago della mia bilancia Sta in mezzo Ma sono curiosa Di capire Dopodiché Sempre Blallo Scrive Rispondendo A un altro utente Ancora Francesca la conosco È una brava ragazza Ma anche ingenua A tratti Però anche questa cosa Dei suoi dati Messi in rete Lei che non torna In Italia Per le minacce Che ha fatto vedere Loro dicono Che invece Verrebbe arrestata Boh Insomma ragazzi Una persona confusa In ogni caso Vediamo come Reagisce Bugalalla Quando Blallo Si palesa Nella chat Di Twitch Dunque Volevo anche ricordare Alla signorina Che se ha dei dubbi Sarebbe il caso Che venisse a chiederle a me E non Che vada lì A fare lo spettegules Con Con la Gente Che si permette Di organizzarsi Per farmi Cyberbullismo Minacce Revenge Porn E pubblicare Il mio indirizzo Di casa Perché se davvero Mi vuoi bene E se davvero Sei qui parte Della community E hai qualche dubbio Io ti rispondo A tutte le tue domande Se mi scrivi a me Ma andare in mezzo Al Come dire Al gruppetto Di malfattori E fare anche Quella che Oh sì Dai Raccontami tutto Sono molto curiosa Dimenticandoci magari Di quello che hanno fatto Alle famiglie delle vittime E non tanto a me Alle famiglie delle vittime E lo dico A In nome Di anche tutti gli altri Se avete dei dubbi Se avete dei dubbi Mi venite a chiedere Venite Adesso io magari ci metto Qualche giorno a rispondere I messaggi Perché ho Pietà Avviate pietà Ma Farvi vedere Io sinceramente Mi vergogno Di vedere Elementi Della mia community Che vanno lì A fare proprio Gli spettegolesti In mezzo A Claudia Ancona Sant'Anico E tutto il resto Anche perché Io porto qui Ogni giorno Le famiglie Che si fidano di me E si fidano di voi Questo non è buono Proprio per niente In seguito ragazzi Un altro utente Deluso anche egli Dal modo in cui Bugalalla si è rivolta Durante la live A Blallo Sotto un post Della pagina facebook Di Bugalalla Inerente al caso Di si si trovato Mazza Lascia il seguente Commento Io invece sto iniziando A non fidarmi più Di ciò che dici Perdonami La tua ultima live Era piena di cose inesatte E giuro che mi dispiace Un sacco Ho continuato a pensare Che tu fossi sincera Che non stessi mentendo Sapendo di me Di mentire Difendendoti dove possibile Ma dopo che hai detto Che Bruzzone E gli altri profili Hanno pagato Per scaricare le tue foto E che hanno ammesso Di averlo fatto Dove sono Queste ammissioni Mentre tutta la chat Scriveva che quelle foto Si trovano tranquillamente Gratis Con una ricerca a google Ho perso molta fiducia Non ci voglio credere Che stai mentendo Alla community Che ti supporta Quando hai nominato Blallo Davanti a 800 persone Facendola passare Per traditrice Gossi para Hai detto Che te rispondi a tutto Che le cose Bisogna chiederle a te Eppure mi sembra Di aver capito Che quando te li prepari I casi Cerchi di seguire Più fonti possibili No? Dunque perché in questo caso Bisogna affidarci solo a te Quando non hai risposto A quasi nessun dubbio Su Zeppellini Quando hai parlato Di lui in live Allora io ti chiedo Dove sono Queste ammissioni E poi vorrei sapere Tutto su Zeppellini Parlando punto per punto Dell'articolo Di Selvaggia Lucarelli Bugalalla Risponde Così Qui sotto Adesso vengono tutti Bannati Bruzzone Vieni tu a scrivere Di persona Se finalmente ti viene Il coraggio E smettila Di far postare I fake O i tuoi scagnozzi Ti aspetto Oggi pomeriggio In live Sono sicura Che conosci Il link Quindi ragazzi Bugalalla Accusa di nuovo Roberta Bruzzone Di essere lei A creare Fake E a mandarli Da lei Ora Sotto questo Commento di Bugalalla Ragazzi Diversi utenti Si lamentano Della sua Di questa risposta Tipo c'è un utente Che scrive Che Bruzzone Gli urta Il sistema nervoso Ma comunque Perplessa Circa quello Che racconta Bugalalla Dice che continuerà A seguirla Ma che comunque Si augura Che tutto Venga Diventi più chiaro Il prima possibile Insomma ragazzi Si respira Un clima Teso Un clima Anche abbastanza Perplesso E ora Io Non so bene Come Bugalalla Sappia che Questi fake Gli rimandi Roberta Bruzzone E per quale motivo Lo affermi Con cotanta Certezza Dubito fortemente Che abbiano Gli indirizzi P pure Di questi qua Di già Ma sono curiosa Di sapere Cosa ne Pensiate Voi Tra parentesi Ragazzi Ho appena visto Che questi commenti Di risposta All'accusa Di bugalalla Di essere tutti Fake Dell'Abruzzone Non ci sono più Quindi sono stati Eliminati In ogni caso Ragazzi Opinione mia Disapprovo Assolutamente Queste delegittimazioni Di chi Mostra Delle perplessità Cioè Sono delegittimazioni A prioristiche Degli oppositori Non le trovo Costruttive Non trovo Costruttivo In generale Creare un clima In base al quale O sei con me O sei contro di me È controproducente Capito Perché A maggior ragione A queste persone Vengono dei dubbi Gli sale il complotto Cominciano a pensare Che qualcuno La stia manipolando La stia convincendo Di questa cosa Un po' troppo Fermamente Che Roberta Bruzzone Sia dietro Tutti questi account Perché Questo fa a pensare Che effettivamente Ci sia qualcosa Che non va C'è da dire Che comunque Bugalalla Potrebbe essere Confusa Alquanto confusa Al punto Da non riuscire A distinguere Quelli che sono I fake Perché ce ne sono Veramente Tantissimi I ragazzi Creati apposta Per andarle A scassare I maroni Da quelli che sono Veramente Suoi ex fan Cioè voglio dire Ci sono Veramente Degli account Che si vanno A imbucare Nelle sue live E non è difficile Capire Che si siano Imbucati Soprattutto se Come i nickname Si mettono Signora peschiera Cioè è chiaro Che In questo caso Non ti impegni Neanche Per non essere Riconosciuto Come fake Che è lì Solo per prenderla In giro E questi fake Ragazzi Bugalalla Li banna Perché appunto Teme che Vadano lì Solo per avvelenarle Le acque Per seminare Dubbi Tra la sua Community Inghaggiare Persone Schierarle Contro Di lei E creare Prove Contro Di lei Mettendola Nella condizione Di non rispondere Ad alcune domande Per esempio Su Mirko Zeppellini Vi faccio vedere Questa parte In cui Ne parla A proposito Di signora Peschiera Vi devo spiegare Diciamo Un pochino Meglio La situazione Rispetto a Perché abbiamo Dovuto Bannare La signora Peschiera La signora Peschiera Che era qua In chat È ovviamente Parte Della Combricola È ovviamente Parte Della gang Dell'associazione A delinquere Loro vengono In chat Scrivono E Dicendo Che io Parlo con loro Senza sentirmi Minacciata Cagare Infinita Perché io Non parlo Con loro E Mi sento Minacciata Io Mi sento Assolutamente Minacciata E questa qui Era una Tecnica Per far credere Determinate cose Che non sono Assolutamente vere Quindi Se loro Vengono qui A scrivere Bugie Per far credere Il contrario Di ciò Che è la verità Io sono poi Obbligata Chiaramente A Bannare In ogni caso Ragazzi È sicuro Che non Tutti Quelli Che hanno Dubbi Su Sulla Veridicità Di quanto Raccontato Da Bugalalla Siano fake Anzi Sono Convintissima Che le idee Dei suoi followers Forse siano Siano molto Variegate Ma è normale Ragazzi Cioè Sia in attesa Di processi E sia in una situazione In cui si è detto Veramente tutto E il contrario Di tutto Io sfido Chiunque A non essere Perplesso È normale Che ci siano Delle opinioni Veramente Diversificate In questa faccenda Quindi Io lascerei Che ognuno Si faccia La propria Opinione Alla fine L'importante È che questa Opinione Venga espressa Con civiltà Senza insultare Senza meccanismi Punitivi Insomma Nell'avere Un'opinione Contraria Così come Nel nutrire Un'antipatia Verso qualcuno Non c'è niente Di strano Non c'è niente Di male Poi Alla fine Ragazzi Per quanto riguarda Tutto il resto In questo momento Chi dice la verità Lo sanno Solo Bugalalla E Roberta Bruzzone Ed è Metim Di certo Non voi Di certo Non io Quindi ripeto È chiaro Che ognuno Abbia La sua idea In ogni caso C'è da dire Che io Ragazzi Se in un primo momento Leggendo queste Queste Cose qui Sono rimasta Un po' male Perché ho detto Ma come C'è critichiamo Roberta Bruzzone Che fa la censura Durante la live Blocca le persone Le insulta Le mette alla berlina E poi Imitiamo Queste modalità No In un secondo momento E cioè Quando Stavo preparando Questo Questi appunti E quindi Sono andata A rivedermi Tutte le live Di cui abbiamo Parlato oggi Ho notato Che Questa Diciamo Aggressione Mettiamola così Nei confronti Di Blallo Non è Lo schema Tipico Con cui Bugalalla Si pone Nei confronti Degli oppositori Ad esempio Mi sono Imbattuta In ciò Scusate Ma devo rispondere A questa domanda Parliamo delle prove Dei biondo Scusate Anche se trovano Due che quella notte Sono entrati in casa Di Mario Come provi Che lo abbiano ucciso Perché mentre erano Lì dentro Quando sono arrivati Era vivo Quando se ne sono andati Era morto Cioè Però studiateli I casi Prima Di Di dire le cose Per favore Cioè Informati bene Poi se mi dici Guarda a me non interessa Non mi danno fiducia Random Ma non mi interessa Neanche documentarmi Bella Cioè ti tiene la tua ignoranza Ma se poi Vuoi Farti ascoltare E vuoi scrivere In mezzo a una community Dando la tua opinione Fai in modo Che la tua opinione Sia informata Comunque Ti ringrazio Perché nonostante Tu non sia stata D'accordo con me Per tutta la live Sei stata sempre Molto educata Quindi Grazie Guarda D'accordo Io non devo Convincere tutti Anzi Io non blocco E non cancello Come vedi Sei qua dall'inizio Della live E finché rimani Educata e rispettosa Hai tutto il diritto Di dire Comunque non ci credo Va benissimo così Quindi come vedete C'è stato uno scontro Che si è però Concluso con Ognuno resta Della propria opinione Ma grazie per averle Espresse educatamente Nonostante tutto E per aver Guardato il video Nonostante tutto E Un modo di parlare Abbastanza diverso Da Imbecilli Avete Il cervello Di un topo morto Inoltre ragazzi In altri momenti Bugalalla Ha invitato La sua community A non fare Shitstorm Anzi L'ha Elogiata La sua community Proprio perché Nonostante Tutto quello Che stavano guardando Che erano sicuramente Cose da far A capponare la pelle Non stavano andando A cercare Che so Come dice lei Roberta Bruzzone E co Per Insultare Queste persone In un altro momento Sprona la sua community A non Andarsi a sedere Dalla parte Del torto Andando appunto A insultare A fare Shitstorm E dice Noi dobbiamo rimanere Dei signori Non abbassiamoci A questi livelli Diamo l'esempio Una cosa del genere Vi faccio vedere Queste diverse clip Devo dirvi Siete davvero Una community Coi contro maroni Perché siete Dei signori E siete Veramente Bravi in questo Non avete fatto Shitstorm Non avete insultato Non siete stati Maleducati Nessuno di voi E io sono immensamente Fiera di voi Più di ogni altro Ho davvero bisogno Del vostro affetto Della vostra Della vostra forza E sono certa Che Riusciamo A Fermare Questa Queste cose Così Brutte Non ho parole Perché se devo dire Quello che penso Poi passo Dall'altra parte E dobbiamo sempre Restare Dei signori Raga Noi rimaniamo Dei signori Non ci abbassiamo A loro livello Quindi insomma Ragazzi Mi viene da Pensare Che magari È stato Un momento In cui ha perso Le staffe Per Per via Dello stress Accumulato D'altra parte È veramente Difficile In queste situazioni Rimanere Stabili Non passare Neanche per un momento Dalla parte Sopperandi Questa ragazzi Ho deciso Che è la mia Opinione Su questa Faccenda Voi Invece Che cosa Ne dite Che cosa Ne pensate Commenti Fatemelo sapere Nei commenti Ma comunque In tutto ciò Ragazzi Nel giro Di pochissimo Tempo In questo Gruppo Si fiondano Anche Gli utenti Della rete Si iscrivono Anche loro Entrano Nel gruppo In ogni caso Ragazzi Secondo me Con un occhio Attento Non è difficile Distinguere Chi in questo Gruppo Abbia buone Intenzioni E chi invece Sia lì Solo perché Ha trovato Un nuovo Spazio Per denigrare Bugalalla Un nuovo Canale Di sfogo Per odiarla Ad ogni modo Cosa di preciso Si rimprovera Alla streamer Cosa rimproverano Alla streamer I delusi Abbiamo già Parlato Del suo Accusare Gli oppositori Di essere Fake Di Roberta Bruzzone De legittimando A priori Qualsiasi loro Argomentazione Contro di lei Ma questo Gruppo Ragazzi Viene usato Anche per un altro Motivo Abbiamo visto Che ha cambiato Nome In i delusi Dalla buga Più fermiamo I truffatori Mteam E infatti Questo gruppo Praticamente Si pone Delle domande Delle domande Che appunto Riguardano Mteam Ci sono delle cose Che non tornano E vorrebbero Che a queste domande Rispondesse Bugalalla E nel caso In cui Lei Non conosca La risposta Vorrebbero Che lei Queste domande Le faccia Se stessa E che capisca Che effettivamente Ci sono delle cose Che non quadrano Addirittura I delusi Ragazzi Si hanno raccolto In un lunghissimo post Tutte Tutte Queste Domande Sull'Mteam Rivolte Direttamente A bugalalla Si tratta Addirittura Di 43 domande Che vengono Quotidianamente Aggiornate Vediamo Di leggerne Qualcuna Riepilogando Vorremmo risposte A queste domande Risposte che Bugalalla Crime In quanto portavoce Del team Ci può fornire Qui oppure Nella sua live Come preferisce Poniamo Queste domande Per avere Chiarezza Su tutta La faccenda Quindi Uno Cosa ne pensi Del team informatico Che ha il sito Costruito con Wix Allora Praticamente Secondo Quanto racconta La rete Praticamente Me team Si sarebbe Creato Il sito Con Wix Che sarebbe Una piattaforma Che ti consente Di creare Appunto Dei siti Un sito Professionale Normalmente Creato Attraverso Un linguaggio Di programmazione Di sanapianto Da un informatico Invece In questo caso Si sarebbero serviti Di un sito Così Non so spiegare Questa cosa Sono troppo Stanca Ragazzi Mi dovete perdonare La testa Mi sta esplodendo Ho un mal di testa Esagerato Sono qui Da quasi Sei ore Cioè Voi probabilmente Avrete un video Di due ore O giù di lì Ma io sto registrando Da oltre sei ore Cosa ne pensi Del team informatico Vabbè Questo l'abbiamo letto Punto 6 Perché dici Di avere i nomi Di alcuni fake Quando invece I nomi Non corrispondono A quei profili Punto 7 Perché il servizio Delle iene È ancora online E fruibile a tutti Se asserite Di essere giunti In sede civile Per risarcimento A detta Di queste persone Se Un servizio Per esempio Delle iene Diventa oggetto Di Uno scontro Legale Nel frattempo Non risulta più Disponibile online La sua visione Viene temporaneamente Bloccata Cosa che non è Accaduta Al sito Delle iene Punto 9 Perché dici di essere Rimasta negli USA Per paura Quando avevi già Programmato Di restare Lì Punto 11 Qui mi sento Chiamata in causa Ragazzi Perché Serve un'autorizzazione A usare le foto Di zeppellini Se si trovano Online Da tutte le parti Io Nell'incertezza Dato che Sono una C***a sotto Gli ho censurato La faccia Le volte successive Anche se Mi hanno fornito Questa Autorizzazione Si sa mai Per carità di Dio Punto 12 Perché non vuoi parlare Del film Ma è esistito Delle foibe Perché quando ti hanno Chiesto la questione Della troffa foibe Hai detto No ragazzi Non chiedetemi Di foibe Per favore E se è andata avanti Senza rispondere Allora Qui mi pare Di aver capito Che sia perché Appunto Questo Mirko Zeppellini Secondo lei Secondo loro C'ha tipo La denuncia facile Non so Io ho capito così Poi Cioè Perché avete Questo dubbio Punto 22 Come spieghi Che hai mostrato Il libro Che la dottoressa Bruzzone Ha regalato A Zeppellini Se quello lì Con cui vivi Non è Zeppellini Allora Di che si tratta Questa cosa Ragazzi Praticamente Ehm Un attimo Perché L'avevo scritta Dopo Questa cosa Allora L'altra volta La streamer Ha mostrato In live Un libro Scritto Da Roberta Bruzzone Autografato Dalla stessa Roberta Bruzzone Che la criminologa Ai tempi In cui collaborava Con M. Team Aveva Regalato Appunto A M. Team Autografandoglielo E Santanico Ha preso Questa clip In cui appunto Bugalala Fa vedere il video Il libro Autografato Di Roberta Bruzzone E lo condivide Su facebook Scrivendo Un momento Un momento inquietante Tra la recita Piagnucolosa E diffamazioni varie Ecco che Zeppellini Le ordina Di mostrare La dedica Sul libro Della dottoressa Roberta Bruzzone Chi ti ha passato Il libro? Da dove Arriva? Roberta Bruzzone Immediatamente Si palesa Nei commenti E Risponde Alla domanda Di Santanico Te lo dico io Questo libro Insieme ad altri Libri Io li ho regalati A Zeppellini Nel dicembre Del 2019 Su sua richiesta Ampiamente documentata Nella lunghissima chat Con Zeppellini Peschiera Che ovviamente Ho già acquisito Da tempo E li ha ricevuti Per il tramite Dell'avvocato Luciano Faraone Devo dire Che non mi aspettavo Un regalo Così clamoroso Dalla Bugamelli Meglio nota Come Storchella Stolcher Lalla Ha anche altre identità Ma quelle Li ho inserite Direttamente In denuncia Perché il passaggio Sul libro Della live Di ieri sera Era esattamente Il tastello mancante Per dimostrare Che lei È insieme a Zeppellini Che sa perfettamente Che Zeppellini È John Peschiera Che ne è complice E che inganna Deliberatamente Tutti i suoi seguaci Altro che cliente Di M-Team Che è tornato in Italia Da moglie e figli Direi che meglio di così Non poteva andare Serie davvero infinita Ragazzi Di faccine che ridono Proprio grazie Alla dedica Che ha mostrato Questo genio Ho la prova Che dimostra Che si tratta Proprio del libro Donato a Zeppellini Che spettacolo Faccio fine che ridono Quindi ragazzi Secondo Roberta Bruzzone Questo libro Che mostra Bugalalla È la prova Provata Che lei Abbia visto in faccia Mirko Zeppellini Unico e solo Elemento Di M-Team Che aveva Che aveva questo libro Di Roberta Bruzzone Consegnato Per tramite Dell'avvocato Luciano Faraone E quindi Lei ha visto In faccia Questa Questa persona Roberta Bruzzone Afferma Senza ombra Di dubbio Che la faccia Di questa persona Corrisponde A quella Di Mirko Zeppellini Di conseguenza Bugalalla Sa di mentire Quando dice Che Mirko Zeppellini Sia solo Un cliente Di M-Team Questo è Il ragionamento Alla base Di Di queste affermazioni Perché Visto il tuo passato In cui parassitavi Il cerbero In cui nessuno Ti sopportava più Idra selvaggia Non scordiamocelo In cui mostravi I piedi Nelle live Per visual In cui hai posato Nuda Per il sito In cui sei stata Bannata Per il fatto Dei peni Dei minori Quelli di M-Team Hanno scelto Proprio te Non qualcun altro Di più professionale Forse perché Rilesca giusta Non ci hai mai pensato Insomma ragazzi Vi ho letto Le domande Che magari Riguardavano Le cose Di cui abbiamo Abbiamo trattato Ma ripeto Ce ne sono Ce ne sono Veramente tante Ora Siccome Bugalalla Ha questa tendenza Ad accusare I suoi Oppositori Di essere Parte Della rete Di Bruzzone Enco Allora I delusi A un certo punto Pubblicano Un post Con cui Si dissociano Completamente Dalla diatriba Con Roberta Bruzzone Quindi Loro Hanno dubbi Che riguardano Principalmente La questione Di M-Team Mentre di Roberta Bruzzone Non gliene strafrega Un cavolo A quanto Stando a quanto Dichiarano Vi leggo Questo post Molto importante A questa pagina Non frega niente Della Bruzzone Delle liti Tra Buga E Bruzzone Non ci interessa Proprio Qui siamo Una pagina Neutrale Prima eravamo Sostenitori Di Buga E ora ci stanno Sorgendo tantissimi Dubbi E vorremmo Delle risposte Non ci interessa Deridere O bullizzare Nemmeno Fare fotomontaggi O divulgare Foto O insultare Collaboratori Perciò è vero Che non baniamo Nessuno Perché tanto Chi si comporta Male Si dà La zappa Sui piedi Da solo Davanti a tutti Ma chiediamo Rispetto Tra utenti E state Nel tema Senza divagare Spostare L'attenzione Su altri Come ad esempio Sulla Bruzzone Chi se ne frega Se lei Ha il sito Fatto coi piedi È un'esperta Informatica No M-Team Invece Che pare Superman Degliac Era questo sito Orrendo Fatto male Con gli script Che manco Un lamer Scriverebbe In quel modo Per di più Costruito Su Wix Con il logo Che non è mai Stato registrato Da nessuna parte Spero che abbiamo Chiarito le cose Quindi come vedete Ragazzi Anche all'interno Di questa discussione C'è poi Chi è Interessato Alla questione M-Team Che è interessato Alla diatriba Tra Bruzzone E Bugalalla Che è interessato Al fenomeno Di cyberbullismo Alla questione Del caso Di Mario Biondo E questo gruppo Insomma Si dice Interessato Soltanto Alla Alla questione Di M-Team Addirittura Ragazzi Pubblicano Un post In cui Dicono Ciò La persona Che scrive Dice Ci tengo a specificare Che questa pagina Si dissocia Dai fotomontaggi Fotocompromettenti Divulgate Offese Ai familiari Qui Siamo solo Persone Deluse Dalla buga Ognuna Con la propria Esperienza Che non vogliono Essere associate Alla fantasiosa Associazione Chiamata Bruzzone Enco Questo è quanto Ragazzi Ovviamente Io Di risposte Alle loro domande Non ne ho Mai avute E mai ne avrò Però Insomma A questo punto Mi sbilancio Anche con la mia Opinione Su questa cosa Dei delusi Dalla buga Allora Qualora la vostra Posizione sia Diffidente Verso M-Team La mia idea Ragazzi È che la cosa Migliore Sia scriverle In privato E farle sapere Perché Secondo voi C'è qualcosa Che non quadra E dirle Che se Dovesse Notare Con i suoi Strumenti Intellettivi Delle cose Che non le Tornano nel team Non si deve Preoccupare E può tornare A fare il suo Lavoro Distaccandosi Dalle M-Team In qualsiasi Momento Senza rendere Conto ragione A nessuno Neanche Alla sua Community Perché Perché c'è in ballo Qualcosa di grosso E la sola idea Che poi Si debba spiegare Che forse Che forse Avevo torto Potrebbe indurre Chiunque A perpetrare Una causa In cui magari Non crede Neanche più Perché ormai Se torna indietro Fa cattiva figura Non so se mi spiego Ripeto ragazzi Sono veramente Devastata Parlatene con lei Confrontatevi Con lei Dopodiché Però ragazzi Temo che il vostro Compito si esaurisca Qui Se avete ragione E lei non vi ascolta Ci sbatterà La testa da sola Non sta a nessuno Di voi Costringerla Anche se le vostre Intenzioni sono buone Lei ha comunque Il diritto Di credere In quello che vuole E di fare Quello che vuole Quindi ragazzi Ripeto Parlate con lei Scrivetele in privato Se dice Che M team Per lei È a posto Potete Scegliere Se avere fiducia Nel suo intelletto O continuare A essere perplessi Se non vi risponde Proprio ragazzi Amen Che vi sentiate delusi È comprensibile Magari avete anche Supportato il suo canale Mi rendo conto Che può essere triste Vedere che Il nostro beniamino Non si comporta Come ci aspettavamo Però ragazzi Sono cose che capitano Cioè È anche vero Che con l'abbonamento Non avete comprato Francesca Bugamelli Avete solo fruito Di un servizio Offerto da Bugalalla E ci sono persone Che invece Si Sono contente Del modo in cui Lei si stia comportando Cioè le loro aspettative Sono del tutto soddisfatte Loro si aspettavano Che lei reagisse In questo modo E appunto Non sono affatto deluse E queste persone Sono tantissime Oserei dire Che sono la maggioranza Quindi Ci sta Che una parte Resti delusa Dal suo comportamento Ci sta Che un'altra parte Invece Ne sia soddisfatta Orgogliosa Nel senso Deludere qualcuno In questa situazione È inevitabile A priori Cioè in qualunque modo Ti comporti Qualcuno Ne rimarrà deluso In una situazione Del genere E ragazzi Purtroppo le delusioni Fanno parte della vita E ce le dobbiamo Accollare Non abbiamo Comunque Il diritto Di punire Chi ci fa sentire Delusi Per la fortuna Di numerose persone Contro cui ancora oggi Dopo Anniko Vorrà ancora Quindi Se siete Delusi Dalla buga Io vi direi Cioè smettete Di seguirla E amen Io ragazzi La vedo così Secondo me È giusto così Non ha senso Continuare a metterle Addosso questa pressione Anche perché Penso che anche I delusi I veri Ex fan Saranno d'accordo Sul fatto che La macchina Del fango Mostra contro di lei Sia ingiusta Come hanno dimostrato Insomma Scrivendo che si dissociano Da tutto Da questi comportamenti Quindi in ogni caso Non mi sembra Un buon momento Per aggiungere Altra carne al fuoco Non sappiamo In che condizioni Può versare La sua psiche In questo momento Eviterei ragazzi Aspettiamo Che le cose Si svolgano Da sé Ci saranno Dei processi Va bene ragazzi Basta Chiudiamola qui Tocca a voi Dirmi che cosa Ne pensate Di tutta questa vicenda E da che parte Vi schierate Io per quanto riguarda Le mie team Sono veramente Molto confuso Ne sento una campana E credo a quella Poi ne sento un'altra E credo a quell'altra Insomma Faccio veramente fatica A capire Chi dica la verità E quindi Ripeto ragazzi Ribadisco la mia posizione Per me Qui sono tutti Minchiatari Fino a prova Fino a prova contraria Quindi aspetterò I processi Per sapere La verità L'unica cosa Di cui Sono veramente Sicura E di cui Ho un'opinione Proprio Proprio Ferma È che il modo In cui si è agito Contro Bugalalla È ingiusto Su tutti i fronti Non ci sono Giustificazioni E ripeto Che il fine Non giustifica i mezzi Io Potevo comprendere Un lungo post Con delle argomentazioni Contro di lei Ma anche la lunga live Di Roberta Bruzzone Ragazzi Con la quale Lei ha spiegato Punto per punto Il suo punto di vista È ok Con tutto Che comunque Ha detto molte cose Secondo me Errate Però quello Che per me È assolutamente Deprecabile Sono le battutine Continue La ricerca di motivi Per odiarla Scavare nel suo passato Schernirla Per il modo In cui recitava Condividere Le sue foto Di nudo Prenderla in giro Per queste cose Poi Le cose che abbiamo Già detto No Condividere il suo Numero di volo Le sue informazioni Private È troppo È decisamente Troppo I dibattiti pubblici Sono la cosa Più bella Del mondo Il motivo Per cui internet Deve esistere Ma non si devono Svolgere così Ragazzi Questa Questa è veramente Una faida Non deve esistere Che si associa Un clan Contro una persona Per denigrarla E schernirla In questi termini Insomma Ragazzi Queste cose Le ho già dette Stradette Inutile Ripetermi Quindi Detto ciò Basta Ragazzi Siamo qui A parlare Di questo argomento Ormai Veramente Da troppo Tempo Non so più Neanche Quanti anni Ho a questo punto E se fuori La pandemia Sia finita Ma spero Che Quanto meno Siate riusciti A farvi la vostra idea Su questo casino Ragazzi Quindi Vi passo la parola E ditemi Che cosa ne pensate Voi Se magari Ho tralasciato qualcosa Aggiungetela pure nei commenti Insomma io ragazzi Vi leggo E vi leggo molto volentieri Mi raccomando Anche oggi Non andate a insultare Non andate a cercare Gli utenti coinvolti nella rete E in generale Coinvolti in questa storia Distinguetevi Per la capacità Di argomentare E se proprio Siete arrabbiati Lanciate qualche pesca Qui nei commenti Allora ragazzi Questo riassuntone È chiaramente Soggetto a una maledizione Per la quale Non deve finire In ogni caso Vi devo fare L'ultima aggiunzione Dal futuro Perché mi sono arrivati Dei messaggi In cui mi si chiedeva Se fosse vero Che ho subito Delle minacce Da parte di Robert Abruzzone O più nello specifico Da parte degli account fake Che magari ho menzionato In questi video Allora Io ero perplessa Da questi messaggi ricevuti Fino a quando Non mi è stato proprio riferito Che circola questa voce In base alla quale Io avrei appunto Subito delle minacce O che stia ricevendo Cioè subendo delle minacce Sono qui ragazzi Per smentire questa voce Per fortuna Vi ringrazio intanto Tantissimo Per avermi avvisata Per esservi preoccupati Per questa cosa Però potete tirare Un sospiro di sollievo Perché in realtà Nessuno Mi ha Minacciata Nessuno mi sta minacciando E in realtà Nessuno mi ha nemmeno Insultata Per fortuna Sono stata Si contattata Come vi avevo anche accennato Da diversi oppositori Di Bugalalla Persone che non erano Assolutamente d'accordo Magari con determinate Cose che ho detto Però in realtà Ragazzi Nessuna di queste persone Si è permessa Né di insultarmi Né tantomeno Di minacciarmi E sarebbe disonesto Da parte mia Dire il contrario E far circolare Tranquillamente Questa voce Cioè fino a questo momento Mi è sembrato Mi è sembrato Che tutti Abbiamo avuto abbastanza Il rispetto Della mia libertà Di opinione Anche quando Pensavano Che la mia opinione Fosse una merda Ma che la mia opinione Fosse una merda Comunque me l'hanno detto Con tutto il garbo Del mondo Quindi onestamente Ragazzi Non posso dire nulla A riguardo Non posso fare vittimismo Su una cosa Che obiettivamente Non esiste Non è mai successa Io poi ci scherzo Sul fatto che Mi arrestiranno Mi denunceranno Però naturalmente È ironia Riferita A questo meme In base al quale Roberta Bruzzone Abbia la denuncia facile In realtà Penso Cioè se tutto va bene Nessuno verrà A prendermi Cioè veramente Un po' ci spero Che qualcuno venga A prendermi Quando per esempio Alaska urla Perché pretende Di bere l'acqua di Carlo Però Penso che alla fine Nessuno mi salverà Da ciò Al massimo Mi è successo Che qualcuno Mi abbia Più di uno In realtà Mi abbia scritto Stai attenta Iris Non farti trascinare Giù da questa gente Però capito Non è che mi è stato detto Ti avviso Iris Non farti trascinare Giù da questa gente Cioè La differenza Sembra sottile Ma anche no Nel senso Nessuno mi ha messo paura Nessuno ha voluto Mettermi paura Poi che altro Cioè ho visto Che qualcuno Mi ha citata Su Facebook Nelle proprie pagine Tra questi Account Che si scagliano Contro Bugalalla Però Anche questa È una cosa Cioè abbastanza Normale Nel senso Grazie a Ho parlato di questo caso Per quattro ore Che adesso Sono diventate sette Non mi aspettavo Certamente Che nessuno Se ne accorgesse Del mio intervento Quindi mi pare Normale Che qualcuno Abbia parlato Di questo video Poi il fatto Che qualcuno Lo abbia criticato Negativamente O che qualcuno Abbia potuto Criticare Negativamente Il modo In cui L'ho affrontato Cioè questi Questi non sono Insulti Ragazzi Soprattutto Non sono Minacce Cioè Sono appunto Opinioni Anche Anche queste Del tutto Normali Non c'è niente Di anomalo Io sono tranquillissima Al riguardo Ci mancherebbe Altro Quindi insomma Ripeto Fino ad ora Ragazzi Va tutto bene Per fortuna Per quanto riguarda La mia persona È tutto Molto tranquillo Ci tengo a precisare Ragazzi Questa cosa In realtà Anche per un motivo Particolare E cioè Che Se circola Questa voce In base alla quale Io subisco Delle minacce Solo perché Magari in diversi momenti Ho difeso Bugalalla Si continua A promuovere Questa convinzione Che esistano Solamente due fazioni In questa storia Bruzzone Enco Contro Emetim E Bugalalla E quindi Mi si vuole Necessariamente Schierare Da una parte O dall'altra E siccome Non lo faccio Io a parole Allora Diciamo Che Raccontando Che io Subisco Delle minacce Automaticamente Vado a Finire Schierata Con Emetim E Bugalalla Allora Io Questa cosa Delle squadre La abietto Cioè io Nonostante Appunto Difenda Bugalalla Da determinate Modalità Di 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 Muoverle Critica Comunque Non mi piace Affatto Questa divisione In due squadre In due clan Perché ragazzi Non esistono Soltanto due fazioni In questa storia Esistono individui singoli Ciascuno con la propria opinione E secondo me è importante Che ci cominciamo Di questa cosa Perché Dividerci in due squadre Tipo di calcio Non fa che fomentare Sentimenti da tifoseria Oltra Che sono sentimenti Tossici Portano a pensare Che chiunque la pensi Diversamente Sia automaticamente Il nemico E quindi lo si debba Combattere Come un nemico A maggior ragione Ragazzi Non mi piace Questa suddivisione In due squadre Nette Quando C'è Il minimo Lontano E vanescente Rischio Che in questa vicenda Ci possano essere Eventuali Presunti Dubbi Manipolatori Perché Perché per un manipolatore Non c'è strategia migliore Che fare Divide E timpera Come vi ho già Fatto capire A me Basta Il dubbio Per cercare Di Non appesantire Ulteriormente Cose che potrebbero Già essere pesanti Non so se mi spiego Poi se in realtà È tutto a posto Tanto meglio Nel senso Non Nessuno ha perso niente Però nel dubbio È sempre meglio Muoversi con cautela E fare la cosa Più civile È la cosa più civile Secondo me È alimentare Il dibattito E non certo Creare appunto Delle fazioni Delle squadre Anche con queste fake news Perché il fatto che io Subisca delle minacce È una fake news E spero che lo rimanga Una fake news Ragazzi Perché poi Ovviamente tutto può succedere Magari pubblico Sto video E mi arriva un messaggio Di Gianpaolo Che mi scrive Tra sette giorni morirai Però insomma Per fortuna Finora Non è successo Ragazzi Casomai comunque Potete stare tranquilli Perché tanto c'è C'è Carlo Che mi protegge Casomai Libero Carlo Contro chiunque Voglia farmi del male E sono al sicuro Carlo Carlo Confermi che ci sei tu A proteggermi Carlo Vali a prendere Carlo Mi stanno attaccando Carlo Carlo Prendili Carlo Va bene ragazzi È tutto sotto controllo Comunque ripeto Grazie per esservi Preoccupati anche Questa volta Insomma Finora per fortuna Tutto ok Tutto ok Detto ciò Per oggi ragazzi Mi ritiro È stato devastante Non vedo l'ora Di andarmi A riposare In cella Per qualche mese Complimenti ragazzi A chi ce l'ha fatta Ad arrivare Fino a qui Siete magici Ragazzi Siete mal Non so come avete fatto A questo punto Vi ricordo Che se volete Sostenere il canale Potete farlo Offrendomi un caffè Virtuale Tramite il link Che vi lascio giù Nell'info box E ragazzi A questo punto Basso Non riesco neanche A dirlo ragazzi È tutto È tutto Ci vediamo prestissimo Con un nuovo video Giornale E ragazzi A voi la linea Il C'è chiudere i A presto A presto Unico A presto Ero A presto Unico